Salve, ben trovati, ben trovati in questa veramente cornice straordinaria, devo dire. Arrivando qui si rimane senza fiato dalla bellezza, dal mix tra la storia, ma anche tra il presente e direi il futuro, perché vedere i mercati di Traiano pieni di proposte nuove, di sostenibilità, mi ha fatto una grande impressione. Sono Mirta Merlino, racconto ogni giorno il nostro paese in televisione e sono contenta e onorata di essere qui oggi a parlare invece di questo tema che riguarda non l'oggi, ma riguarda il domani, riguarda il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. La giornata internazionale dell'ambiente è stata istituita, come sapete, nel 74 dalle Nazioni Unite con uno slogan, we have only one heart, abbiamo solo una terra e dobbiamo tenerlo a mente, perché si parla spesso di patria in questo momento storico, ma la vera patria che abbiamo è il pianeta in cui abitiamo e quindi avere questa connessione con la natura, col pianeta, con quello che... e sapere quello che facciamo a un impatto sul mondo in cui viviamo è sempre più essenziale. Io in questi giorni, a proposito del racconto quotidiano, ho raccontato questa tragedia che ha coinvolto tre ragazzi in Friuli, Bianca, Patrizia e Cristian, che sono stati letteralmente inghiottiti dalla puria del fiume Natisone. Ecco, è stato un fenomeno incredibile. In pochi minuti un fiume che era in secca è diventato una piena... con una corrente pazzesca. Questi tre ragazzi, giovani, forti, sono stati vinti dalle acque. E sono dei piccoli sediali, delle tragedie quotidiane che ci ricordano quanto urgente è occuparci della sostenibilità ambientale. E' per questo che sono particolarmente felice di essere qui. Sappiate che siete seduti tutti quanti sul cartone riciclabile. Io ho addirittura un trono in cartone riciclabile oggi, cosa che mi fa molto felice. Comincio a chiamare sul palco i primi protagonisti del nostro incontro di stamattina per il primo tema che affrontiamo, che è il mercato dell'energia pienamente integrato, interconnesso e digitalizzato. Sembra un tema complicato, ma in realtà anche qui ci riguarda tutti, riguarda i nostri consumi quotidiani. Chiamo sul palco Mario Antonio Scino, capo gabinetto del Ministero dell'Ambiente. Ben trovato, benvenuto. Maurizio Grassi, Chief Growth Officer Sornedix Worldwide. Ho imparato in questi giorni che cosa è Sornedix e devo dire che è molto interessante. Benvenuto, ben trovato. Marco Traisch, Presidente del Mix Made in Italy Circolare e Sostenibile. Un'iniziativa molto importante promossa dal Politecnico di Milano. E poi c'è Fabrizio Iaccarino che per noi oggi rappresenta l'Enel, il rapporto istituzionale dell'Enel, ma l'Enel che è un'azienda che tutti conosciamo, che arriva nelle case di tutti noi, ogni volta che accendiamo la luce sostanzialmente pensiamo all'Enel. Prego, accomodatevi. Allora, parlare di ambiente, insomma, si rischia sempre di parlare molto e fare poco. Quindi la cosa che oggi per noi sarà importante è provare invece a parlare di cose concrete, a raccontarci voi che siete protagonisti di tutto questo, esperienze, best practice, cioè cosa si può fare. Perché leggiamo tante cose e poi alla fine la pratica rimane sempre molto lontana dai nostri intendimenti. Andy Warhol diceva una frase bellissima, un grande artista come Andy Warhol diceva credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Diciamo che oggi partirei da questo pensiero. E partirei subito con il rappresentante del Ministero dell'Ambiente, perché appunto partiamo da quello che fanno le nostre istituzioni. Cerchiamo di capire quale deve essere il ruolo del governo, in particolare il Ministero dell'Ambiente, della transizione verso un mercato di energia moderno, integrato, digitalizzato. La cosa che chiederei a Mario Scino è di raccontarci un po' le cose concrete che stanno succedendo in questo momento. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un onore essere qui, proprio il giorno della giornata mondiale dell'ambiente che coincide con il 5 giugno, quindi siamo al posto giusto, al momento giusto. Per quanto riguarda ovviamente la filiera del tessi, la filiera della moda e una filiera, una best practice, insomma, per quanto riguarda ovviamente l'economia circolare, no? Che è un tema che noi seguiamo molto da vicino come Ministero, ovviamente a parte i finanziamenti del PNRR che intercettano quindi sia le imprese ma soprattutto anche la ricerca, l'università e siamo presenti ovviamente con questa integrazione che ormai dura da due governi tra energia, ambiente e clima. Cioè il governo da due legislature ha deciso di affidare a un unico plesso amministrativo la responsabilità di queste politiche. Effettivamente l'ultimo G7 che si è svolto a Torino nella reggia di Veneria Reale a fine aprile effettivamente abbiamo toccato con mano questa integrazione, l'importanza di questa integrazione cioè di trattare unitariamente dei temi che ormai non possono che affrontarsi in modo connesso. quindi quando parliamo di emissioni climatiche la filiera del test e della moda è una delle tradizionalmente hanno avuto annoverata tra quelle più emissive sotto il profilo delle emissioni quindi le aziende già da tempo si sono messe in linea con le politiche di decarbonizzazione e bisogna riconoscere col sostegno poi delle azioni dell'Europa e dell'Italia in primo modo. C'è da dire che il G7 di Veneria Reale è stata varata con ambizione forse un po' qualcuno ha detto forse tanto però la carta di Veneria ha segnato dei punti di non ritorno per cui è evidente che alla presenza del G20 brasiliano che è il presidenza di turno dell'Unione Africana e della Commissione Europea si sono affermati dei principi di non ritorno a parte appunto tra i temi che interessano il tavolo di oggi è proprio lo sviluppo di un'agenda volontaria sul test della moda però ecco i risultati più importanti sono in tema climatico, in tema di energia, insomma i non ritorni sulla decarbonizzazione, sul fissare una deadline al 2030-2035 insomma per il carbone, per l'uscita dal carbone e ovviamente lo sviluppo delle rinnovabili attraverso un mix energetico. C'è da dire che ormai le COP che si svolgono ogni anno, è un appuntamento importante, siamo alla COP29 a Zerbagian a novembre, più che essere un incontro tra ambientalisti è diventato sempre più un incrocio fondamentale tra i mondi della produzione, delle filiere produttive, dell'energia e degli esperti di clima per cui noi come governo italiano abbiamo un inviato clima che segue tutte queste tematiche quindi il governo italiano ha sposato insomma questa figura che affianca il governo nelle politiche climatiche energetiche, è evidente che il G7 ha posto le basi per raggiungere questi obiettivi anche nel tavolo della COP29, si è detto che dopo Glasgow i governi europei si erano un pochino fermati per quanto riguarda i temi emissivi, c'è da dire che insomma si è ripreso il cammino dopo Glasgow 26 con questo G7. L'Italia peraltro sta per varare questo PNIEC che è una sigla che non dice nulla, un acronimo che non dice nulla, il piano nazionale integrato clima e energia che viene adottato ogni cinque anni e il 30 giugno noi vareremo il piano quinquennale ed è ovvio che per le nostre imprese sia produttrici energia sia le filiere produttive è importante capire il governo su quali numeri punta sia in termini emissivi sia in termini di produzione di energia e quindi si è deciso di abbandonare un modello tutta energia elettrica per andare verso un mix energetico, atteso che le guerre, il Covid ci ha insegnato qualcosa ci ha insegnato a non puntare su una fonte sola e ci ha insegnato anche a dare dei target raggiungibili perché tante volte fissare dei target che poi la nostra economia fa fatica a raggiungere effettivamente non è una cosa positiva. C'è da dire che la Commissione europea ci ha dato un riscontro positivo alla bozza di PNIEC che abbiamo emanato a giugno dell'anno scorso e con l'assistenza di tutto il mercato, con la consultazione pubblica che abbiamo avuto contiamo di varare un PNIEC che dia dei numeri reali sostenibili che il nostro mondo produttivo possa realizzare nel prossimo quinquennio. Quindi effettivamente siamo attenti alla ricerca la ricerca anche sul nucleare nel senso che il nucleare ovviamente di terza generazione non è più praticabile almeno per quello che è stato l'esito referendario che abbiamo avuto nel 2013 ma non di meno la ricerca su altri tipi di produzione da nucleare possono essere importanti. Dobbiamo fare molto proprio perché l'energia è molto connessa alla produzione le bollette costano care, il mondo produttivo invoca sempre e dice ma come mai che le materie prime costano di meno e la bolletta è sempre alta poi ce lo dirà meglio il nostro Fabrizio abbiamo un regolatore nazionale che è la RERA però è indubbio che le politiche energetiche servono anche a quello, servono per favorire, evitare una delocalizzazione delle nostre imprese che non abbandonino il territorio nazionale ma che rimangono a produrre nel nostro territorio e favoriscano quindi l'insediamento nel nostro territorio di nuovi siti industriali. C'è da dire poi se ci sarà un secondo giro che anche noi siamo stati molto attenti al sociale nel PNRR e nel PNRR che dedicheremo un capitolo sul mondo del lavoro perché la sostenibilità oltre a essere il driver deve essere quello economico ma c'è anche un driver sociale non bisogna dimenticare l'impatto sul mondo del lavoro e quindi stare attenti al fatto sì che la transizione digitale ed energetica avvenga in un saldo netto, positivo o almeno zero fra uscite del mondo del lavoro, entrate del mondo del lavoro e creazione di nuove professionalità. Quindi in questo momento siamo impegnati ad elaborare il PNRR e a pubblicarlo il 30 giugno stiamo già lavorando al G20 di settembre-ottobre in Brasile stiamo lavorando alla COP29 in Azerbaijan ma soprattutto stiamo recependo una direttiva comunitaria importante sulle emissioni e quindi anche il mondo che è qui rappresentato sarà interessato a questa direttiva comunitaria perché effettivamente le aziende che non hanno un saldo positivo in termini di emissioni hanno bisogno poi di sapere il governo che numeri dà per l'acquisto di questi crediti sul mercato quindi anche questa direttiva che verrà recepita entro il 10 giugno poi con un passaggio parlamentare sarà molto importante per tutte le filiere comprese la filiera della moda. Ovviamente ci sono importanti incentivi che derivano dalle aste CO2 e pensiamo insieme al MIMIT e al Ministero di Economia di dedicare molte risorse economiche proprio in questi termini insomma per le politiche emissive per favorire proprio l'abbattimento delle emissioni. Io spero di aver dato una minima panoramica in questo senso delle nostre attività. Direi più che minima nel senso che credo che ci ha fatto una panoramica molto interessante perché appunto quando parliamo di sostenibilità non ci dobbiamo dimenticare che poi si iscrive in un contesto molto ampio quindi credo che mettere in fila quali sono i nostri obiettivi dal punto di vista ambientale però come diceva giustamente lei non può essere un incontro tra ecologisti ma deve essere un incontro tra produttori perché? Perché poi ci sono tutta una serie di cose che hanno a che fare con i consumatori finali quindi con i costi ma anche col mercato del lavoro perché appunto tutta la grande polemica sulle auto elettriche cioè sappiamo che poi ogni cambiamento porta con sé una serie di effetti collaterali non da poco e quindi riuscire ad avere una visione di insieme a mettere in fila tutte le necessità per trovare un equilibrio complessivo mi sembra il ruolo che debba avere naturalmente il governo e segnatamente il Ministero dell'Ambiente. Parlavamo di bollette cari anche se ormai devo dire che parlare di bollette quando si parla di Enel è ridottivo perché Enel è veramente un gigante dell'energia insomma tutti noi siamo cresciuti con l'idea mio padre quando eravamo piccoli e non spendevamo le luci in casa urlava ma che siete azionisti dell'Enel quindi per dire come nella vita quotidiana di ognuno di noi l'Enel è sempre stata presente però in realtà l'Enel ormai invece è un gruppo mondiale che è presente in credo oltre 10 paesi? 29. 29 ecco appunto quanti milioni di clienti avete? Una cifra enorme ho letto. Oltre quasi 40 milioni di clienti in giro per il mondo. Quindi insomma parliamo davvero anche di una grande eccellenza italiana dato che ci stiamo avviando verso poi un panel che riguarda il Made in Italy e anche uno che riguarda la moda che per noi è un fiore all'occhiello possiamo dire che Enel è un fiore all'occhiello. Detto questo però si trova a dover operare in un mercato molto complicato. Anche l'altra cosa che ci ha giustamente fatto presente il capogabinetto è il tema della sicurezza energetica. Ci siamo accorti sulla nostra pelle di quanto sia fragile l'equilibrio della sicurezza energetica. Per cui insomma la prima domanda che mi verrebbe da fare è come si sviluppa il mercato dell'energia, in quale direzioni e appunto quanto si può avvicinare a un modello il più possibile virtuoso senza però che poi il costo lo paghiamo noi. Bellissima domanda, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che appunto gli ultimi anni ci hanno fatto prima un po' gli occhi su alcuni fondamentali del mercato dell'energia in Italia. La prima cosa, abbiamo scoperto di avere un mix fortemente sbilanciato su poche fonti. produciamo quasi tutto l'energia elettrica da gas e quindi c'è un tema anche di dipendenza dal punto di vista della sicurezza energetica, dall'importazione, da chi importavamo gas. Poco carbone, zero nucleare, molto import, rinnovabili diciamo abbastanza, 25-25% ma non tantissimo. Quindi poi dopo anche lo shock sui prezzi dell'energia legati appunto anche a queste dipendenze in partire da quella del gas e da lì una serie di riflessioni che anche il governo appunto col piano nazionale dell'energia ha fatto e sta facendo per tentare di riequilibrare tutto questo perché riequilibrando i fondamentali possiamo poi dopo andare a incidere appunto sia sulla sicurezza che sui costi dell'energia per tutti noi. Ora, qual è la strada? Sicuramente una maggiore penetrazione delle energie rinnovabili però da questo punto di vista più che azioni che comunque ci sono da parte del governo delle grandi aziende per favorire lo sviluppo dei rinnovabili le azioni principali che stiamo facendo tutti noi. Voi considerate che in pochi anni, in tre anni, siamo passati da circa noi abbiamo una società nel nostro gruppo che gestisce la rete di distribuzione di energia elettrica in Italia, quasi l'85% del paese. E la rete di bassa e media tensione è quella che arriva nelle nostre case e ci dà appunto la luce, quella che a volte mancava, adesso sempre meno. Questa società, questa allacciava, quindi connetteva circa 50.000 impianti l'anno impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia tendenzialmente o media taglia quindi pensiamo dal singolo pannello fino a campi piccoli fotovoltaici. Siamo passati in tre anni da 50.000 all'acilano a 360.000 significa che noi facciamo mille connessioni al giorno quindi sta in una grande sfida significa che bisogna investire tanto quindi c'è un tema di investimenti noi come gruppo Enel lo stiamo facendo in questo triennio 2024-2026 in Italia investiamo solo sulle reti 12 miliardi proprio perché grazie agli investimenti che hanno già stati fatti la rete è in grado di gestire tutta questa intermittenza delle fonti rinnovabili ma altri investimenti vanno fatti questo però è un'altra sfida perché indubbiamente poi questi soldi vanno comunque ripartiti e quindi ci vuole un equilibrio l'equilibrio va trovato anche appunto stimolando gli investimenti nei rinnovabili da parte dei grandi consumatori quindi i grandi consumatori possono essere favoriti stipulando contratti di acquisto di lungo termine che sono in qualche modo anche visti dal governo come un elemento per equilibrare il mercato stimolare appunto questa produzione da fonti rinnovabili abbassando in autoconsumo sostanzialmente i costi dell'energia soprattutto delle imprese del manifatturiero e provando a portare un equilibrio maggiore interventi di efficientamento energetico autoproduzione sono anche soluzioni per i singoli cittadini come in generale un utilizzo più cosciente dell'energia e un sempre maggiore utilizzo di energia elettrica come vettore più efficiente rispetto ad altri vettori quindi pensiamo alla mobilità elettrica a tendere piuttosto che gli utilizzi in casa come le cucine e induzioni riscaldamento e raffrescamento con pompa di calore è un lungo percorso non ammette distrazioni e soprattutto ci vuole un gioco di squadra in questo momento lo stiamo riscontrando devo dire col governo molto positivamente ci sono però dei problemi perché è inevitabile noi parliamo appunto da un lato parliamo di 360.000 impianti in più l'anno da fonti rinnovabili con tutte le sfide che sono connesse a questo dall'altro è inevitabile basta leggere giornale sentiamo leggere di moratorie di leggi regionali che ostacolano piuttosto che di come dire anche alcuni altri provvedimenti questo però come dire non può essere preso tra virgolette supinamente ci deve far riflettere e quindi probabilmente ci vuole anche una grossa riflessione perché effettivamente l'accettabilità soprattutto di questi grandi impianti e fonti rinnovabili penso all'eolico e il solare deve porre tutti noi di fronte a una riflessione più ampia rispetto a quello che è l'accettabilità di quelle che sono anche caratteristiche di un nuovo paesaggio ma anche d'altro canto per quello che riguarda i grandi investitori in questo settore rispetto a un approccio veramente sostenibile rispetto alle realtà locali per quando si va a proporre un investimento di questo tipo e la presenza di un impianto di questo tipo noi lo stiamo facendo abbiamo dei programmi interessanti a mio avviso in particolare di preventiva appunto ascolto del territorio e anche di sviluppo di strumenti per rendere il cittadino magari di quel comune partecipe anche di questo dei benefici di avere un impianto noi abbiamo un programma ad esempio che stiamo a scelta rinnovabile attraverso la quale stimoliamo una specie di azione di reato popolare rispetto all'impianto e in cambio c'è anche un dividendo che torna una strategia anti-nimbi praticamente una strategia pro diciamo l'anti non ci piace ci piace il pro e quindi pro per favorire un po' tutto questo è chiaro che bisogna per fare questo ci vuole appunto come dicevo prima un gioco di squadra ci vuole sicuramente ci vogliono norme semplificate su questo bisogno dare atto al governo che ne sta facendo ci vuole sicuramente appunto un approccio sostenibile da parte anche che produce non bisogna dimenticarsi che la transizione l'ha detto bene Antonio Scino comunque come dicevo non è un pranzo legale nel senso che comunque quando andiamo a chiudere impianti a carbone noi li stiamo chiudendo gli ultimi due impianti di Ener chiudono il 2025 c'è solo ci sarà una coda in Sardegna per le questioni di connessione della rete e bene queste comunque pongono delle sfide perché gli impianti a carbone ad esempio sono sicuramente come dire ci sono soluzioni molto migliori più sostenibili però è anche vero che sono dei grandi impianti industriali che occupano centinaia di persone quindi anche da questo punto di vista un approccio sostenibile significa andare a interessarsi come stiamo facendo non solo dei nostri colleghi che sono tutti salvaguardati ma anche dell'indotto andando a fare programmi di reskilling per insegnare nuovi mestieri e portarli a lavorare portare l'indotto a lavorare su altre cose come lavorare in ottica di economia circolare per riqualificare questi siti e dargli un nuovo futuro visto che per anni sono stati impegnati da altri comunque insomma un momento molto di grande fermento nel nostro settore grandi sfide però insomma come gruppo Enel ci siamo e penso che davvero con un gioco di squadra e con un approccio come quello che promuovete con questa manifestazione sia possibile affrontarlo grazie grazie credo che appunto la definizione di un percorso lungo non facile che non ammette distrazioni è una descrizione molto azzeccata Maurizio Grassi Chief Growth Officer Sonnedix allora ho letto un po' su Sonnedix avete capito bene siete praticamente un produttore internazionale di energia rinnovabile solare fotovoltaico con molti impianti in oltre dieci paesi siete se ho letto bene il sesto player diciamo di energia rinnovabile di Europa allora intanto grazie per l'invito e buongiorno a tutti sì siamo uno degli operatori principali io mi permetto di esordire dicendo sì siamo il terzo operatore solare in Italia rinnovabile ovviamente ci sono prima di noi dei cugini o parenti di notevoli dimensioni e di storia molto più lunga noi lavoriamo in dieci paesi principalmente Cile Giappone e Nord America e Europa abbiamo cominciato in Italia nel 2010 oggi abbiamo circa 87 persone che lavorano da noi nei nostri uffici in giro per il paese abbiamo circa 12 impianti in costruzione in giro per il mondo con 2000 persone che lavorano nell'indotto la nostra società 570 persone circa mi dispiace aver obbligato questa platea a usare termini inglesi mi ero ripromesso di non usare termini inglesi invece il mio titolo inglese io sono basato negli Stati Uniti nella società americana ma mi piaceva partire con uno spunto dato dal collega noi lavoriamo con Enel quindi l'ultima operazione che abbiamo fatto in Cile abbiamo acquistato degli impianti che Enel ha costruito per poi vendere energie rinnovabili all'Ene che giustamente sfrutta le proprie capacità per renderla disponibile al paese perché il gioco di squadra di cui abbiamo parlato fino adesso non è altro che un approccio al sistema paese che dobbiamo avere tutti mi permetto di insistere su quanto detto dal collega perché andare a dire che l'Enel oggi fa mille impianti al giorno vuol dire che dà lavoro sul territorio a tante persone che fino a dieci anni fa facevano altro la riqualificazione degli impianti a carbone non significa altro che riqualificare le capacità lavorative imprenditoriali del paese quindi non bisogna spaventarsi è un percorso difficile ardo non ricordo la parola utilizzata in questo contesto ma è un percorso che si può fare serenamente e che l'Italia ha fatto l'Italia oggi è uno dei principali player in Europa nel mondo rinnovabile sta continuando un percorso che si sta arricchendo continuamente giorno per giorno abbiamo sentito le iniziative delle autorità abbiamo sentito tutti i passaggi legislativi che in questo momento si stanno discutendo per quanto riguarda i produttori poi parleremo eventualmente della domanda è necessario non solo per i grandi produttori come noi ma anche per i piccoli produttori per i cittadini avere dei quadri normativi precisi delle linee guida che indicano esattamente la strada perché le difficoltà non fanno altro che aumentare i costi del sistema per noi è facile individuare le possibilità sul territorio avendo un radicamento molto profondo per noi è importante discutere con l'imprenditoria locale noi oggi in Italia abbiamo circa 1.4 gigawatt di impianti in sviluppo di questi 1 gigawatt sono agrivoltaico ora non ci dilunghiamo su cosa significa agrivoltaico ormai ne avete già parlato a sufficienza ma l'idea è quella di avere un sistema integrato che permetta alla popolazione al territorio alla terra di lavorare al meglio l'energia rinnovabile che abbiamo scoperto recentemente ma in realtà il legislatore si è mosso già dai primi anni 2000 è una cosa che è partita anni fa ed è uno sviluppo oramai che abbiamo accettato nella nostra vita quotidiana il discorso di utilizzare il territorio al meglio è una cosa che facevano i nostri nonni solo che prima si faceva solo in agricoltura adesso possiamo vedere che ci sono diversi sistemi per utilizzare il territorio che cosa possiamo fare sicuramente noi produttori possiamo mettere a disposizione le nostre capacità e le esperienze lavorando in 29 paesi l'Enel ha sicuramente vissuto esperienze che può riportare anche al nostro sistema Italia e indicare anche agli operatori quali sono le strade utilizzate dalle altre parti perché l'esperienza si guadagna in tanti modi una è quella di osservare cosa fanno i nostri vicini per quanto riguarda il processo normativo noi oggi abbiamo bisogno di avere delle indicazioni chiare e il collega ha parlato di ostacoli magari ostacoli non è una buona parola ma diciamo che ci sono delle difficoltà alle volte ci sono delle incongruenze avere coerenza fra le diverse autorità e quindi avere un disegno normativo uniforme aiuta lo sviluppo sostenibile delle rinnovabili aiutare lo sviluppo non vuol dire permettere solo a noi operatori di lavorare meglio o di avere dei ritorni più importanti significa anche abbassare il costo delle bollette costo delle bollette che non dipende solo da Enel ma sicuramente è oramai un'informazione condivisa della riduzione del prezzo che c'è stato in altri paesi come la Spagna come la Germania grazie allo sviluppo delle rinnovabili mi ricollego al nucleare di cui abbiamo parlato adesso il nostro approccio non è un approccio talebano noi abbiamo cominciato col vento scusate col solare ci siamo spostati al vento stiamo guardando allo storage e stiamo sviluppando una serie di capacità il mix energetico è una cosa che è necessaria e quindi non possiamo farne a meno poi ovviamente aspetterà gli operatori e l'autorità definire il corretto mix energetico ma è una cosa da cui non si scappa la visione talebana non funziona e un approccio condiviso con il sistema è l'approccio di successo che va continuato quindi il legislatore nel fare il suo lavoro permetta agli operatori di avere idee chiare su cosa va fatto gli operatori dovranno lavorare al meglio per permettere al sistema di avere come si diceva prima dei prezzi dell'energia competitivi solo così si può creare un circolo virtuoso utilizzando anche quello che è il nostro territorio faccio notare che noi siamo uno dei paesi in Europa che ha forse l'irraggiamento più elevato e quindi perché non sfruttarlo grazie vorrei invitare sul palco Roberta Angiolilli vicepresidente della regione Lazio che ci ha raggiunti c'è qui pronto un trono anche per lei perché qua nel mondo della sostenibilità gli uomini stanno sulle sedie delle donne sul trono cosa che mi piace veramente molto quindi prego Roberta salve ah ma c'è un video di Sonnedix c'è un video che possiamo far vedere per spiegare le cose che hai detto facciamolo vedere ce l'abbiamo? ok facciamolo vedere grazie 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 allora spiegaci un momento perché appunto questi pannelli sì allora avete visto adesso un video di un impianto che stiamo in autorizzazione proprio in questi giorni e si tratta di un impianto dove produciamo in contempo energia e cotone è una partnership con delle realtà locali che noi abbiamo dal 2017 e l'idea è appunto quella di riuscire a sfruttare il territorio nella sua completezza quindi poter produrre energia in Sicilia perché di questo si tratta in piante siciliani dove l'irraggiamento è decisamente importante quindi la materia prima per produrre energia importante ma anche dove il territorio ci permette di coltivare il cotone e con il cotone ci sono diverse produzioni che stiamo studiando il nostro partner come avete visto ha fatto ha fatto diverse iniziative non solo vestiti ieri c'è stato un bellissimo evento qui c'è stata una sfilata di capi rinnovabili se mi permette la parola così come stiamo lavorando sulla produzione di carta da cotone quindi è produzione di alta qualità ovviamente diciamo che è secondo noi uno dei modi in cui poter spingere sull'agrivoltaico in altri paesi produciamo miele in alcuni casi diamo il territorio dove produciamo energia a dei fattori locali che portano pecore quindi è un qualcosa che già si fa poi ovviamente non si può fare ovunque è chiaro che in certi paesi ci sono delle limitazioni geografiche o ambientali e quindi va studiato non è facile l'ha detto lei non è facile ma si può fare quindi perché no grazie grazie davvero anche di questo esempio molto concreto appunto come dicevamo all'inizio allora vorrei sentire Marco Taish che è presidente di Mix Made in Italy circolare e sostenibile professore Politecnico di Milano si occupa da sempre di sostenibilità mi ha molto colpito l'idea di Mix di mettere insieme impresa, ricerca pubblico e privato e anche settori diversi come abbigliamento arredamento automazione ci spiega un po' molto molto volentieri grazie per l'opportunità noi nasciamo da una richiesta quella del ministero dell'università della ricerca di fare ricerca e innovazione sul Made in Italy quando noi parliamo di Made in Italy mettiamo insieme queste tre A l'automazione quindi tutto il mondo della meccanica dell'arredamento dell'abbigliamento tra il settore diretto quindi quello che Istat classifica come appartenente secondo i codici Ateco questi tre settori ma più tutto l'indotto quindi il mondo della logistica dei servizi delle ICT che vengono mossi da questi tre settori noi stiamo parlando del 52% del PIL del paese circa quindi stiamo parlando del 52% di posti di lavoro stiamo parlando di una percentuale un pochino più alta di investimenti allora mantenere la competitività del paese su questi tre su questi tre settori diventa evidentemente fondamentale perché poi tra l'altro l'export ne risente in maniera significativa quello che noi facciamo è di fare ricerca di fare di fare innovazione su quali su quali temi beh sui temi della sostenibilità dove per noi sostenibilità vuol dire energia vuol dire riduzione dei consumi energetici vuol dire riduzione dell'acqua vuol dire riduzione dell'impatto ambientale che viene generato dalla produzione di questi tre di questi settori e quindi in qualche modo oggi visto che siamo qui a parlare di sostenibilità nel mondo dell'abbigliamento della moda è tutto quello che abbiamo visto che abbiamo visto anche ieri sera questo deve essere fatto facendo ricerca e innovazione su che cosa in primo sul modo di progettare i prodotti di oggi e sul modo di progettare i prodotti del futuro l'utilizzo di tecnologie digitali consente oggi di supportare la progettazione in una maniera molto più veloce e molto più snella e di trovare delle soluzioni diverse progettare in maniera sostenibile quando si parla di sostenibilità l'impatto ambientale in termini di consumo di acqua di energia viene generato quando io produco ma la decisione di quei risultati viene presa nella fase di progettazione del prodotto quindi il 70% dell'impatto ambientale su un prodotto su un capo di abbigliamento lo si decide nel momento in cui si disegna il capo di abbigliamento si produce si progetta il capo di abbigliamento non nel momento in cui lo stai realizzando quando lo realizzi è già troppo tardi quando è deciso di consegnarlo quando è deciso una filiera logistica questo è già troppo tardi per andare a ridurre l'impatto ambientale e poi c'è il tema dei materiali lavorare sui nuovi materiali è fondamentale e quindi c'è bisogno di lavorare sulla chimica c'è bisogno di lavorare con chi siede in laboratorio e sta pensando a queste cose e poi c'è il tema delle fabbriche il made in italy italiano è fatto di fabbriche è fatto di fabbriche italiane è fatto di fabbriche che non si trovano non solo in italia ma con le quali noi italiani lavoriamo e quindi c'è bisogno di ridisegnare di ripensare tutto il sistema della logistica dall'approvvigionamento dei materiali adesso abbiamo visto un campo in cui il cotone era insieme a chi produce energia ma c'è bisogno poi di lavorare con il cotone c'è bisogno di farlo diventare un tessuto c'è bisogno di realizzare i tessuti c'è bisogno di distribuire i tessuti c'è bisogno di stoccare i tessuti e quindi tutta la filiera logistica deve essere evidentemente ripensata fino ad arrivare a ripensare i nuovi modelli di business oggi noi dobbiamo pensare a questo il consumatore di oggi di domani è un consumatore che appartiene oggi alla generazione Z e domani alla generazione Alfa noi per la prima volta ci troveremo ad avere cinque generazioni che sono sul mercato come consumatori dal sottoscritto che appartiene ancora ai boomer alla X alla Y alla Z e alla generazione Alfa guardate che c'è una distanza siderale tra queste generazioni in termini di scelte di prodotto di modi di consumo di approccio al mercato un'azienda che vuole stare sul mercato nel mondo della moda non può non pensare di segmentare la propria offerta di prodotto di servizio su queste cinque generazioni questo è una sfida importantissima perché io sono nato in un mondo fisico io giocavo con le biglie giocavo con le figurine panini qualcuno sorride e quindi sa a cosa mi sto riferendo ma poi mi sono digitalizzato intorno ai 16-17 anni quando ho comprato il primo computer il Vic 20 il Commodore 64 quindi qualcun altro adesso sorriderà perché sa a che cosa mi riferisco e quindi ho fatto una transizione dal fisico al digitale ma se noi prendiamo la generazione alfa la loro prospettiva è totalmente invertita sono persone che sono nate nel mondo digitale sono nate con l'iPad e col telefono col telefonino col mobile in mano e che poi approcciano il mondo fisico dopo per loro il vero mondo è il mondo digitale il mondo fisico è un'istanziazione del mondo digitale ora questo si riflette nei processi di acquisto questo si riflette nelle scelte di acquisto soprattutto dei prodotti più vicini al consumer quindi a quelli dell'abbigliamento e dell'arredamento l'altra considerazione è che questi ragazzi questi giovani questi consumatori sono noi siamo abituati al concetto negativo digitale guardate che questi sono negativi sostenibili queste sono persone che hanno una consapevolezza del tema della sostenibilità che nasce fin dall'asilo perché fortunatamente queste cose vengono insegnate a loro vengono insegnate a loro in maniera educata in maniera formata in maniera consapevole in maniera quantitativamente misurabile io ho avuto modo di parlare con alcune di queste persone e quando parlano di sostenibilità non ne parlano più e questo io ritengo un bene in modo lasciatemi dire romantico bucolico adesso forse qualcuno non sarà d'accordo con me lo dico alla Greta Thunberg ma ne parlano in maniera quantitativamente misurata cioè queste persone noi stiamo facendo un progetto nell'ambito di mix chiedono numeri e dati nel loro processo di acquisto vogliono sull'alimento a fianco della tabella nutrizionale la tabella che spiega che indica il numero e gli impatti ambientali ieri sera quando sentivamo qual era la CO2 associata a quegli abiti io dicevo benissimo fantastico perché questo fra un po' dovremo scriverlo dovrete scriverlo sulle etichette il tema della tracciabilità lungo l'intera filiera quindi diventa un tema necessario di misura e qui arriva il digitale oggi noi mix made Italy circolare sostenibile dovremmo aggiungere una lettera digitale nel nostro nome poi non so come pronunciarlo perché il digitale e la sostenibilità vanno di pari passo non si può più pensare di essere sostenibili senza misurare misurare vuol dire digitale vuol dire avere i dati vuol dire avere tutta la filiera sotto controllo per rendere trasparente la filiera e questo alza l'asticella in termini di sfida a chi deve lavorare ecco mix con 450 ricercatori in 12 università italiane che stanno lavorando insieme a 13 imprese dei tre settori che ho detto prima dove ci sono altri ricercatori che fanno innovazione in queste imprese oggi noi siamo 852 persone che lavorano per costruire il made in Italy del futuro non parlando di bellezza non parlando di design perché questo lo diamo per scontato che le imprese lo sappiano fare ma parlando di innovazione parlando di ricerca parlando di tecnologia perché diventa il fattore abilitante per un made in Italy veramente italiano grazie grazie sì in effetti è vero cinque generazioni di consumatori separati incredibilmente da un'amistanza siderale nel loro approccio una riflessione molto interessante questa voglio concludere con Roberto Angelillo voglio chiedergli che cosa sta facendo la regione Lazio per appunto la sostenibilità sostanzialmente per prepararsi al futuro innanzitutto buongiorno a tutti grazie dell'invito ringrazio gli organizzatori in primis Valeria Mangani e tra l'altro la location è sempre mozzafiato quindi è un momento bellissimo di condivisione però anche di condivisione oltre che di bello anche condivisione di idee e di progetti la regione Lazio ovviamente è in prima linea anche perché diciamo siamo motivati in modo fortissimo a seguire quelle che sono le linee guida dell'Unione Europea sia la programmazione 21-27 dei fondi europei sia il PNRR seguono due diciamo due obiettivi fondamentali le due parole d'ordine fondamentali sono sostenibilità ed innovazione poi da queste due parole segue tutto il resto ovviamente innovazione vuol dire anche ricerca sostenibilità a mille declinazioni però queste sono come dire le nostre due stelle cometa che dobbiamo seguire i fondi a disposizione sono tanti dobbiamo aiutare il territorio dobbiamo aiutare le imprese ma dobbiamo aiutare anche le famiglie a affrontare questa rivoluzione è una rivoluzione che dobbiamo fare ma non la dobbiamo vedere come un'imposizione deve essere una scelta una scelta convinta importante in qualche modo insieme rivoluzionaria e tradizionale perché sostenibilità significa rispetto dell'ambiente sostenibilità significa preservare le nostre risorse naturali il nostro ambiente naturale e la natura è qualcosa di fondamentale per l'uomo quindi un utilizzo consapevole delle risorse non vuol dire rinunciare al progresso non vuol dire rinunciare alla produzione non vuol dire che le imprese debbano fare un passo indietro non vuol dire tornare indietro tutto il contrario vuol dire un approccio sfidante che si basa molto sull'innovazione sulla ricerca e su l'utilizzo consapevole della natura l'utilizzo consapevole delle fonti energetiche anche diciamo dello spazio quindi è un approccio diverso è un nuovo paradigma per questo ho parlato di rivoluzione ma ripeto non vuol dire un'involuzione non vuol dire sacrificio non vuol dire rinuncia vuol dire adattarsi ad un'altra visione tra l'altro noi italiani a mio avviso siamo favoriti perché se pensiamo al rinascimento la giornata del made in italy è proprio nel giorno della nascita di leonardo da vinci se noi pensiamo al rinascimento e se pensiamo a leonardo da vinci abbiamo come dire tutto abbiamo la bellezza abbiamo l'arte abbiamo l'innovazione abbiamo la genialità abbiamo tutta una serie di cose che non vi sto a dire perché sono il nostro patrimonio genetico da sempre il nostro DNA e la tecnologia è quello che storicamente tradizionalmente ci ha sempre caratterizzato ma non oggi da sempre nel mondo e da sempre quindi da qui dobbiamo ripartire dicevo abbiamo tantissime risorse la regione Lazio a breve proprio il prossimo mese lancerà una serie di bandi partiamo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese nel processo di sostenibilità di innovazione per renderle competitive perché le nostre imprese devono rimanere competitive quindi nuovi obiettivi nella competitività chiudo dicendo che abbiamo tra l'altro oltre a molte risorse abbiamo delle occasioni straordinarie delle vetrine eccezionali che sono a settembre la regione Lazio farà un grande evento proprio sulla sostenibilità un evento internazionale e nel 25 abbiamo Osaka 2025 quindi grande vetrina di incontro internazionale una grande opportunità per l'Italia ecco chiudendo sulla moda la moda deve proprio coniugare sostenibilità innovazione tecnologia ricerca la moda è Italia l'Italia è moda ma dobbiamo trovare una chiave diversa innovativa e anche la sfilata di ieri sera ha dimostrato che non dobbiamo rinunciare al bello per essere innovativi per risparmiare risorse o meglio non mi piace tanto il termine risparmiare dobbiamo utilizzare le risorse in modo consapevole sapendo che esistono risorse alternative alle risorse tradizionali che sono allo stesso modo competitive e che ci possono come dire aprire le porte del futuro grazie grazie anche appunto perché poi è interessante avere sia la visione del governo che quella della regione quindi la doppia la doppia visione istituzionale volevi aggiungere qualcosa non voglio rubare tempo ai panel successivi solo le varie generazioni indicate dal professore ormai sono una realtà costituzionale cioè l'articolo 9 della costituzione è il 41 9 riguarda l'ambiente gli ecosistemi la biodiversità anche nella ottica di proteggere le future generazioni è una modifica della costituzione nel 2022 la dobbiamo declinare l'articolo 41 che tutela la libertà di iniziativa economica a sua volta si rapporta a questi nuovi valori la riforma del codice ambientale che abbiamo messo in pista vede anche l'audit di varie associazioni quindi siamo ben lieti se il mondo associativo di oggi presente di ascoltarli nella riforma di norma del codice che riguardano loro cioè la responsabilità del produttore l'EPR i cam quindi tutte tematiche a loro care quindi siamo ben lieti per quanto riguarda l'ultima battuta stiamo discutendo in queste ore io prima ero al telefono scusatemi non era maleducazione con le regioni proprio per le aree idonee cioè l'Italia è una mappa geografica che ancora non ha indicati i punti in cui si possono installare in modo sicuro cioè con chiarezza per le regioni le impianti di rinnovabili e se non abbiamo questa chiarezza ovviamente i target di energia di sicurezza energetica non li possiamo raggiungere quindi questa battaglia che stiamo conducendo insieme alle regioni di individuare insieme queste aree idone in modo tale che un domani l'operatore economico non possa dire me ne vado all'Italia però l'Italia deve garantire questo approccio grazie grazie davvero siamo partiti dal mercato dell'energia ma abbiamo enormemente evocato il mondo appunto i produttori le imprese il mondo del made in Italy quindi io ringrazio i nostri ospiti li saluto e faccio salire sul palco i protagonisti del prossimo panel grazie a tutti voi grazie grazie a tutti la nostra pausa dura poco perché abbiamo una mattinata intensa con molti protagonisti quindi vi chiedo di sedervi e proseguiamo la nostra giornata questo panel è sul made in Italy anche sul disegno di legge del made in Italy per valorizzare il made in Italy non c'è bisogno che io allora vi pregherei di sedervi che ricominciamo grazie allora questo panel mi incuriosisce enormemente perché il mondo della moda che tutti amiamo che in qualche modo è il grande ambasciatore del made in Italy nel mondo perché se siamo così noti e così amati molto è grazie alla nostra moda la nostra moda che vince nel mondo e che piace piace a tutti Carlo Cipolla il grande storico dell'economia diceva una frase che io adoro diceva l'Italia è quel luogo dove all'ombra dei campanili siamo capaci di produrre cose che piacciono al mondo intero ecco il mondo della moda da questo punto di vista è davvero la grande prova perché sono tutte esperienze che nascono a livello locale radicate fortemente su tradizioni su storie meravigliose su capacità artigianali sulla magia delle mani italiane mi verrebbe da dire perché sono ognuno di voi in qualche modo rappresenta anche un po' questo e però poi vince sui mercati internazionali oggi con noi ci raggiungerà il ministro Adolfo Urso e come sapete non solo ha voluto cambiare il nome del suo ministero dal ministero dello sviluppo economico al ministero proprio del mediterraneo e delle imprese per far capire quanto centrale nella sua idea di governo è questo elemento ma ha fatto anche appunto ha promosto questo disegno di legge sul mediterraneo allora con noi il cavalier Federico Marchese che però è un personaggio meraviglioso perché è cavaliere italiano ma è un cavaliere italiano alla corte del re d'Inghilterra perché il re Carlo d'Inghilterra forse è il sovrano più sensibile in assoluto al mondo alle tematiche dell'ambiente e della sostenibilità l'ha chiamato a guidare una task force ma ci arriveremo nel corso del nostro incontro e poi Bartolomeo Rongone amministratore delegato di Bottega Veneta Bottega Veneta non ha bisogno di presentazioni appunto quando parlo della magia delle mani italiane Bottega Veneta è una grande conferma James Ferragamo che porta un cognome che già dice tutto di una grandissima tradizione familiare di un cos'era il bisnonno? era il nonno un nonno straordinario visionario che è riuscito a inventare uno stile e un mondo Chief Transformation and Sustainability Officer di Salvatore Ferragamo quindi appunto si occupa esattamente del tema che affrontiamo oggi e Fedele Usai direttore generale di Dolce & Gabbana se c'è un brand della moda italiana che amano veramente tutte le star globali quello è Dolce & Gabbana quindi insomma per dire che abbiamo davvero con noi i protagonisti assoluti di questa bella storia che è la storia del nostro Made in Italy però è anche vero che ho scoperto anche leggendo devo dire per questo nostro incontro di quanto invece la moda sia inquinante di quanto c'è bisogno nel mondo della moda di ragionare di lavorare per far sì che le meraviglie che tutti amiamo che tutti ammiriamo sulle passerelle ma anche insomma tutte le volte che abbiamo occasione di avvicinarci a uno di questi meravigliosi capi di abbigliamento di pelletteria poi invece siano sostenibili col mondo in cui viviamo quindi partirei proprio da questo dalla Sustainable Fashion Innovation Society cioè quello che sta facendo un pezzo importantissimo del mondo della moda per affrontare queste tematiche e per risolverle non è semplice ma credo che insomma ci siano molte riflessioni in corso comincerei con Federico Marchetti che è un imprenditore tecnologico un pioniere anche della sostenibilità ha fondato Jux quindi insomma ha avuto un'idea enormemente innovativa credo che però poi negli ultimi anni si sia veramente dedicato enormemente al progetto della sostenibilità guidando appunto questa task force fondata da Reccarlo che è proprio una task force che riguarda la moda e la sostenibilità quindi da quello che ci siamo anche detti nelle nostre conversazioni avete già fatto tante cose concrete ci sono una serie di progetti uno dei quali mi ha colpito enormemente il passaporto digitale per i vestiti cioè a proposito delle generazioni della generazione Z e poi quella Alfa c'è un momento in cui noi potremmo entrare con un suo telefonino in un negozio avvicinarci a un capo e sapere esattamente questo capo come è stato prodotto dove è stato prodotto con quale dispiego di energia e questo mi sembra davvero una rivoluzione prego Federico grazie buongiorno a tutti parlando del allora sì mi sono inventato Yux nel 99 quindi in tempi non sospetti non c'era Instagram non c'era non c'era lo smartphone non c'era nulla e quando ho venduto la mia azienda nel 2018 ho pensato che cosa fare dopo perché avevo soltanto 49 anni ho realizzato che comunque avevo dedicato in realtà un sacco di tempo un po' inconsapevolmente e a volte anche consapevolmente proprio sulla sostenibilità perché in realtà Yux nel 2000 partiva dalle collezioni della stagione precedente e quindi già questo era un concetto circolare da un certo punto di vista cioè quello di allungare la vita al prodotto era un concetto adesso lo chiameremmo sostenibile allora sinceramente non ci avevo pensato poi dopo nel 2008 ho lanciato un progetto sulla sostenibilità che si chiama Yuxygen quindi poi ho comprato Net-a-Porter gli inglesi erano più indietro di noi italiani su tutta la parte di sostenibilità quindi ho portato la sostenibilità anche in Inghilterra e nel 2017 ho provato a sperimentare questo passaporto digitale con le nostre private label quindi in realtà il passaporto digitale in realtà è venuto da una semplice idea insieme al nostro team di ricerca e sviluppo della tecnologia perché comunque avevamo circa un migliaio di ingegneri e di data scientist in azienda quindi insomma era ed è tuttora un'azienda di tecnologia per dare potere ai consumatori finali di diciamo di avere l'informazione perché comunque l'informazione è tutto senza l'informazione è difficile fare scelte poi in realtà io me l'ho rimmaginato anche un po' più diciamo anche un po' di marketing mi immaginavo che lo stilista venisse fuori con un ologramma che tipo tipo in Star Wars quando 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 esce fuori dal robottino che ti racconta come ha fatto a inventarsi quel capo però in realtà è un progetto mio del 2017 quando ho venuto iux iux in quel momento si chiamava così ho detto bene allora adesso questo passaporto digitale che ho già visto che funziona lato consumatore proviamo a lanciare come obiettivo ai membri della task force che guido di cui il re d'Inghilterra è diciamo il fondatore mi ha chiesto nel 2021 di mettere insieme questa task force ho chiamato membri italiani inglesi francesi arabi tedeschi americani insomma un po' una quindicina di membri posso c'è una curiosità io ma come va invece di un lord scozzese ha scelto te a capo della task force il re d'Inghilterra perché in effetti la domanda è più che lecita perché uno dice cosa ci fa uno start-upper imprenditore tecnologico con il re d'Inghilterra effettivamente è una domanda assolutamente comprensibile che a volte me la chiedo anch'io ma perché con Juxnet a Porte mi ero inventato un progetto che si chiamava Modern Artisan che metteva insieme l'artigianato con la tecnologia e che ho lanciato al re d'Inghilterra gli è piaciuto moltissimo e l'abbiamo fatto subito proprio detto fatto e fu un tale successo con tutti i proventi che andavano la fondazione per l'educazione dei ragazzi scozzesi e così via che lui penso che abbia immaginato che io fossi uno bravo e quindi perché comunque in due settimane su tutti i nostri siti vendemmo questa collezione fatta da giovani italiani e scozzesi completamente sostenibile e basata sui dati e su tutto quello che è l'intelligenza artificiale stiamo parlando del 2018 fu un tale successo cioè vendemmo più quella collezione lì più di Prada Gucci qualsiasi altro brand che fu tutti rimanemmo a bocca aperta e quindi da lì lui penso che diciamo abbia detto forse questo questo signore qua italiano può portare un'accelerazione attraverso la sua esperienza di tecnologia e di innovazione alla moda e quindi il passaporto digitale nel 2021 ho messo insieme questa task force appunto fatta da Armani a Cucinelli da Chloé a Burberry e così via e ho lanciato l'idea del passaporto digitale e abbastanza in anticipo perché la commissione europea ne ha iniziato a parlare nel 2022 però io giocavo d'anticipo perché l'avevo già provata quindi insomma e tutti hanno aderito all'idea l'abbiamo diciamo annunciata se non mi sbaglio al G20 a Roma in presenza appunto di Re Carlo e da lì da buon imprenditore per arrivare alla fine di tutta questa diciamo tragitto alla tua domanda da buon imprenditore a me piace fare le cose non mi piace chiacchierare e basta perché gli imprenditori fanno quello realizzano le cose altrimenti si annoiano e in effetti tutti i membri hanno già lanciato un pilota e alcuni ad esempio se tu entri nella boutique di Parigi di Chloé tutta la collezione è già col passaporto digitale tra l'altro con la possibilità anche di rivendere i capi su un'altra piattaforma tecnologica quindi insomma diciamo tante cose concrete e tangibili perché la sostenibilità altrimenti non è una questione del futuro è una questione di oggi cioè non possiamo aspettare più di tanto assolutamente no infatti poi vediamo se c'è tempo ci racconti qualche altro progetto perché so che ce ne sono svariati di esempi concreti e mi piacciono molto perché insomma credo che onestamente oggi è questa la cosa interessante di questo nostro incontro perché sono fatti tanti discorsi su questo tema invece raccontare esperienze concrete è secondo me la cosa più utile allora arrivo a James Ferragamo perché appunto è membro di una famiglia che per noi è davvero un pezzo fondante del Made in Italy in ogni casa appunto sembra la storia delle generazioni insomma io mi ricordo mia mamma mia nonna con le scarpe e le borse Ferragamo mia madre e mia figlia per i 18 anni ho comprato una borsa di Ferragamo quindi diciamo che in qualche modo è qualcosa che è entrato proprio nel nostro DNA e questo è interessante dalla tua esperienza James del fatto che in qualche modo sia un ponte fra una grande tradizione artigianale insomma appunto il nonno Salvatore era un calzolaio geniale quindi proprio la capacità nelle sue mani e invece il futuro il racconto di una moda che cambia pelle rimanendo però se stessa che secondo me è la grande chiave per il nostro paese cioè noi dobbiamo rimanere fortemente noi stessi ma sapere come camminare in un mondo nuovo quali progetti stai portando avanti grazie grazie buongiorno a tutti è veramente un piacere poter essere qua con voi tutti noi abbiamo delle nonne che hanno prodotti che penso che questo è il primo esempio di sostenibilità del nostro prodotto perché dura fino ad oggi addirittura io ho delle figlie molto giovani che vanno dalla nonna a rubargli i vestiti o le scarpe che hanno sicché è assolutamente un concetto molto circolare ma io credo che oggi la moda ha un obiettivo di cercare di essere sempre più sostenibile ma allo stesso tempo ha anche un obiettivo che va un po' contro che è quello di continuare a crescere e sicché su questo come la filiera riesce a abituare a trovare una soluzione a questo dilemma questo dilemma abbastanza polarizzante nel suo approccio nel cercare di trovare delle soluzioni che permettono proprio di risolvere questa differenza e noi come azienda senza dubbio abbiamo sempre avuto questo come nostro DNA mio nonno nostro fondatore era uno che per necessità doveva trovare durante la seconda guerra mondiale dei materiali che erano per l'appunto sostenibili perché comunque la pelle la gomma il metallo era dedicato alla parte bellica e di conseguenza creò scarpe con il sughero creò scarpe con il celofano che era questo materiale che lui comprò e fece degli intrecci pazzeschi che devo dire che erano veramente innovativi anche per quel tempo ecco riuscì a mettere un vincolo in una creatività e in una bellezza lui era veramente una persona incredibilmente creativo che non aveva questi limiti che potessero bloccare la sua crescita questo era qualcosa che per noi rimane molto vivo e molto presente oggi e credo che fa anche un po' narrativa su quello che è il problema di oggi cercare di fare proprio questo cercare di essere comunque allo stesso tempo innovativi ma fare bene al nostro pianeta forse il mio il museo Ferragamo a Firenze che se qualcuno non l'ha visto è veramente incredibile capisci quanto era innovatore lui era in realtà un grande innovatore io non me l'ho immaginato fino a che ho visto il museo grazie Federico ho fatto la stessa osservazione quando ci siamo conosciuti perché anche io quando ho visto il museo Ferragamo a Firenze io ho visto i materiali incredibili e modernissimi che lui usava invece all'epoca della guerra ma anche per me è stata una rivelazione è arrivato il ministro Adolfo Urso lo salutiamo gli diamo il benvenuto ministro se vuole stare sul palco con noi c'è un trono che lo aspetta un trono però di cartone riciclabile ciao ciao Adolfo benvenuto bene e proprio su questo tema cioè cercare di portare avanti questa collaborazione che vediamo nel museo che in questo momento abbiamo proprio la mostra che è dedicata al nostro fondatore 1898 1960 racconta proprio la storia di questa sua abilità nel creare i suoi sogni in realtà e questo veniva fatto tramite una collaborazione la collaborazione è quello che per noi oggi chiamiamo trasparenza nella nostra supply chain e diventa molto importante da un punto di vista sia di capacità di fare impresa ma anche da un punto di vista sociale per assicurare che tutti gli aspetti sono inclusi nella capacità di fare bene e trasparente il prodotto il professor Tisch parlava prima anche della parte che si rilega anche al product ID ecco le Gen Z senza dubbio la Gen Alpha quando le incontriamo e abbiamo anche degli incontri con loro nelle nostre sedi sono fanatici di sostenibilità per loro il prodotto deve essere senza dubbio più sostenibile che altro e queste sono delle domande che comunque vorranno vedere anche il modo in cui il prodotto poi viene sviluppato nella loro fase di sviluppo last but not least facciamo parte anche noi con Kering che ha fondato il Fashion Pact e altre 250 aziende proprio a questa iniziativa iniziata nel 2019 dove Marco Gobetti il nostro amministratore delegato è uno dei partners che segue tutte le varie iniziative anche su un'iniziativa dedicata proprio sulla parte dedicata a marchi di lusso per cercare di capire come poter migliorare sia la parte del nostro footprint che diciamo che è lo sforzo principale che è anche tutta la parte dedicata alla sostenibilità circolarità e trasparenza della nostra supply chain no scusate mi sono incantata a guardare le scarpe di rongone che sono riciclabili fatte a batterare riciclabili straordinarie sì devo dire va bene scusatemi allora Adolfo dato che siamo sul palco praticamente col gota della moda italiana se per te va bene farei concludere loro e poi così tu tiri un po' le conclusioni su quello allora do la parola adesso a Fedele Usai direttore generale Dolce Gabbana Fedele Usai peraltro è in Dolce Gabbana da un po' viene da Condenasta ha fatto molte esperienze diciamo nel mondo del marketing e della comunicazione che sono un po' i pilastri del Made in Italy del sistema e mi piacerebbe capire appunto ognuno di voi l'esperienza che sta facendo nel senso che Dolce Gabbana è un brand notissimo che anche lì ha un radicamento alla terra all'Italia dal proprio sì io lo considero un brand veramente fortemente intrecciato con i sapori gli odori i colori della terra italiana quindi capire un po' qual è la strada su cui vi state avviando grazie buongiorno a tutti innanzitutto sì è un brand intrinsicamente italiano fino dalla sua fondazione perché poi i brand portano all'interno del proprio DNA quello che sono se poi sono dei brand che hanno successo perché raccontano storie appunto che sono reali sono bidimensionali quello che appare è poi la profondità appunto il nonno di James e Dolce Gabbana è la storia di due ragazzi uno siciliano che ama Milano un milanese che ama la Sicilia e proprio c'è tutta la contraddizione e il bello dell'Italia in questo Domenico Dolce e Stefano Gabbana che si incontrano si innamorano da lì nasce una storia affettiva e poi imprenditoriale di grande successo è un brand che come ricordavi prima tu ha ricevuto il favore nel tema perché è un brand relativamente giovane quest'anno è il nostro compleanno 40 anni di Dolce Gabbana quindi diciamo siamo i figli discoli del sistema della moda gli ultimi arrivati abbiamo fatto tanto peraltro quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere anche il ministro Urso con noi a Milano a Palazzo Reale c'è la mostra appunto dal cuore alle mani che appunto racconta di questa passione che nasce da artigianità dal rispetto del territorio per tutto quello che c'è dietro la costruzione poi di un abito particolarmente apprezzata appunto come ti ricordi hai detto da star da internazionali che ci premiano tutti i giorni però questo è un aspetto importante che ha a che fare anche con i temi della sostenibilità perché è vero che le generazioni nuove sono generazioni incredibilmente demanding appunto sul controllo della filiera sulla trasparenza sulla formazione che è un altro tema che tutti noi stiamo affrontando in questo momento sia la formazione interna dei nostri dipendenti ma soprattutto sul tema poi anche spinti da quella che è la regolamentazione europea di formazione della filiera perché la responsabilità del prodotto è in carico giustamente ai brand quindi in questo caso non si tratta più di un'operazione apostolica di convincimento ma di formazione vera e propria della filiera che è la ricchezza italiana e come dicevo perché è importante anche poi nella comunicazione quello che avviene perché poi tutte queste star che hanno milioni di folle o verseguaci eccetera chiedono che cosa loro non si vorrebbero mai mischiare con un brand che non segue questo tipo di strada data dalla trasformazione non soltanto la banale trasformazione transizione energetica del carbonizzazione di questo stato di cui si parlava prima ma proprio il tracciamento il riciclo il mercato del second hand il vintage tutti aspetti su cui appunto il mondo della moda si sta confrontando e il made in Italy diventa importante dove però per il made in Italy ogni tanto sento delle definizioni che per noi che operiamo appunto nel mondo abbiamo la fortuna anche di viaggiare incontrare clienti partner operatori è un po' particolare il made in Italy non è mai un dove cioè ci sono degli stranieri che si vorrebbero venire a vivere in Italia per carità ci sono come in Spagna come in Francia eccetera ma il made in Italy è come un giorno un professore universitario americano mi ha detto chi non vorrebbe vivere un'ora da italiano che è una cosa che mi ha molto colpito ed è la verità perché alla fine è il come vivi il tipo di vita che hai che riguarda il design che riguarda il tipo di finiture che riguarda la filiera il fatto che sia stato fatto a mano che ci sia una una ricerca che riguarda la nutrizione che riguarda l'ambiente in cui vivi questo è il made in Italy che non è un luogo ma è un modo di essere e vi assicuro che questo modo di essere ci è particolarmente invidiato in tutto il mondo ogni tanto io dico che noi italiani siamo overrated cioè siamo overstimati perché ed è vero perché questo ci viene ampiamente ampiamente riconosciuto ora siamo nel mezzo di un di un passaggio importante che è quello che si deve conciliare la tradizione con l'innovazione che si deve portare a termine una transizione della sostenibilità che va fatta in poco tempo e rapidamente e dall'altra parte ci deve proiettare al futuro le nuove generazioni che sono parte importante non solo dal punto di vista del consumo ma anche dal punto di vista dell'organizzazione aziendale cioè noi le nuove generazioni hanno una particolarità rispetto a quello che io denunciando la mia età ho conosciuto e altri che sono generazioni che hanno conoscenze superiori alle generazioni che li hanno preceduti di solito è stato sempre il contrario di solito il nonno il padre che tramandava delle conoscenze oggi ogni generazione che arriva ha delle conoscenze in più di quelle di quelle precedenti quindi secondo me oggi è importante non soltanto appunto considerare le generazioni come i futuri consumatori una generazione di futuri consumatori ma stare in ascolto sono diversi da noi dobbiamo ascoltarli perché anche internamente in azienda e penso sia una cosa comune con appunto i miei colleghi hanno delle esigenze completamente diverse a quelle che avevamo noi esigenze di vita loro sono più secolarizzati diciamo nel senso che hanno uno spazio per la vita privata molto maggiore a quella che avevo io per esempio alla loro età è giusto rispettarli in questo e quindi saranno loro il motore di questo cambiamento ed è importante come dicevo prima anche dal punto di vista della comunicazione riuscire a cambiare e a dare profondità a tutto quello che facciamo raccontando delle storie che siano credibili un tempo Henry Ford diceva che una famosa frase le anatre depongono le loro uova in silenzio mentre invece le galline stannate fanno un bel po' di casino e la conseguenza è che tutti mangiamo uova di galline e in effetti oggi diciamo sta cambiando molto io credo che la comunicazione sia soprattutto contenuto sono più guzzantiano cioè io e te aborigino se non c'è un contenuto anche se abbiamo un media che ci mette in contatto che ci dobbiamo dire poi lo dicevi in maniera più più brillante grazie grazie davvero do adesso la parola a Bartolomeo Rongone ci parlava Usai di un brand che nasce dal cuore e dalle mani ed è vero perché poi nel caso di Dolce Gabbana c'è questo ulteriore secondo me magia che tutto nasce da una storia d'amore che diciamo per una grande impresa creativa e tanta roba se c'è un brand che per me rappresenta al meglio la magia delle mani italiane questa è Bottega Veneta sarà perché sono appassionata di quei magici intrecci da sempre ma davvero insomma è proprio la dimensione di come un'artigianalità straordinaria può diventare brand mondiale e può entrare in un grande gruppo internazionale non perdendo però mai il rapporto con il territorio anche qui la domanda è come vi state muovendo anche perché appunto nel vostro caso c'è un'esperienza particolare stare dentro un grande gruppo ma restare italiani e pensare alla sostenibilità dentro il nostro territorio buongiorno grazie per gli interventi precedenti sono sempre molto affascinato da come il mondo della moda si distingue anche semplicemente nel presentare sugli stessi argomenti dalle altre industrie io sono in piedi qui perché ho la fortuna di avere con noi qui al panel oggi il ministro e chiuderò l'intervento con un piccolo appello e questo mi tiene in questa posizione lo farò portando l'esempio di questo brand straordinario Bottega Veneta che ho la fortuna di gestire dal 2019 per farvi capire cos'è Bottega Veneta c'è un piccolo video che io se possibile lancerei grazie Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e tutti. Grazie a 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 tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. in Africa. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 su. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e tutti. a 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 tutti. perché. a tutti. 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 gli archi. a tutti. 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 di cui. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. noi. a tutti. tutti. a 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 tutti. 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 a 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 tutti. che. a tutti. a tutti. io. a tutti. direttrice della di questi. a tutti. a tutti. a tutti. e tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. mi. 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 sono. sono. tutti. . e la . non è. così. . è. . . a tutti. grazie. grazie. . 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 l'impatto economico che evidentemente ha la sostenibilità nei processi produttivi dell'azienda ma che è diventata una necessità lo dicevo prima perché lo richiede perché noi consumatori siamo diventati anche pretendenti non è che siamo più buoni ma siamo semplicemente attenti la sostenibilità è per fortuna entrata dentro il nostro modo di consumare. Allora dall'osservatorio invece diciamo così dell'economista come possiamo tenere insieme il tema della competitività ha tante variabili la formazione è sicuramente uno di quelli. Bene grazie grazie intanto a Valeria per l'invito anche quest'anno vi porto anche i saluti della magnifica rettrice. Allora una parolina di inquadramento purtroppo sappiamo tutti siamo in tempi gravosi grandi crisi sanitarie geopolitiche belliche umanitarie e quindi sociali economiche e anche ambientali e on top stiamo vivendo queste grandi trasformazioni le citavamo prima la trasformazione digitale e la trasformazione sostenibile. Ora per affrontare queste crisi per cogliere le opportunità insite in queste grandi trasformazioni a mio avviso la cosa più importante è che ci sia una ricerca di collaborazione di sinergia tra i grandi attori coinvolti e quindi le istituzioni l'accademia la ricerca il mondo produttivo la società civile. Noi economisti parliamo di quadrupla elica ovvero di quel motore che si può attivare per generare sviluppo sviluppo culturale economico e sociale proprio grazie a queste interazioni virtuose tra questi soggetti. E devo dire che questo evento è un fulgido esempio di contesto nel quale questa sinergia questa collaborazione si può generare. Ma parliamo di sostenibilità in particolare quindi sustainable transformation è stato già accennato a una portata ampia una portata profonda che è assimilabile a quella che abbiamo vissuto con la rivoluzione industriale prima con la rivoluzione digitale poi con la globalizzazione. Quindi un impatto veramente significativo che porta alla obsolescenza dei sistemi economici dei modelli di business esistenti. Si posiziona a diversi livelli naturalmente c'è a livello istituzionale a livello sovranazionale Nazioni Unite Unione Europea a livello nazionale ma si posiziona poi anche a livello delle imprese e di noi singoli consumatori e quindi poi arrivo alla domanda ma come la sostenibilità entra nelle strategie delle imprese e come condiziona i comportamenti dei consumatori. Però qui c'è un grande cambiamento da generare e da gestire. Noi diciamo che le organizzazioni devono dotarsi delle risorse delle competenze dinamiche che sono quelle competenze che consentono di gestire il cambiamento. E qui il cambiamento è veramente profondo perché occorre incidere sul purpose delle organizzazioni, sui valori, sulla cultura, sulla governance, sui modelli di business, sulle strategie, sulle fonti, del vantaggio competitivo, sul modo di gestire le relazioni con gli stakeholders, sulla valutazione dei rischi, sulla valutazione delle performance che non devono essere più solamente di carattere economico e finanziario ma devono riguardare le altre dimensioni, quella sociale e quella ambientale. Allora qui c'è un tema, chi può attivare, chi può gestire questa trasformazione? Noi abbiamo bisogno di sustainable leader, cioè di persone che abbiano determinati valori, determinate caratteristiche, determinate competenze. Due anni fa abbiamo fatto una bellissima ricerca, credo estremamente rilevante, commissionata da CEC, che è l'associazione dei manager europei a centinaia di migliaia di aderenti, e che federa le associazioni nazionali, come ad esempio Federmanager per l'Italia. Ora questa ricerca aveva l'obiettivo proprio di verificare la dotazione di competenze in tema di sostenibilità presso i manager europei. Quindi abbiamo intervistato 1500 manager, come a Sarvey, online, 1500 manager provenienti da sei diversi paesi. Bene, è emerso che allo stato attuale c'è ancora un gap estremamente significativo di competenze presso il management europeo. Il management europeo sono quei soggetti che devono attivare e gestire questa trasformazione. Allora c'è il gap, bisogna intervenire in termini di formazione per l'appunto. Per costruire i green jobs, che sono queste nuove figure professionali, ma anche per rendere verdi le professioni attuali, che si devono connotare di ulteriori competenze. Quindi è ben evidente, la formazione è il motore dello sviluppo. Ricordiamoci che il nostro paese è ai più bassi livelli, in termini di percentuali di PIL destinato all'università, alla ricerca e quindi alla formazione. Siamo veramente in fondo, quindi questo è un grande tema. Le competenze, tutti noi siamo d'accordo, sono un asset indispensabile, in particolare proprio in fasi di grandi trasformazioni, fasi di cambiamento, di turbolenza, che sono quelle che viviamo in questi tempi. Ormai il cambiamento è una costante, possiamo dire. E allora la formazione, la formazione continua, la formazione non formale, la formazione sulle hard skills e sulle soft skills. Su questo avrei tante cose da dire riguardo a ciò che il mio Ateneo sta facendo, ma non so se lei preferisce che io lo faccia adesso in due minuti. Abbiamo il tempo, abbiamo 34 minuti, facciamo due giri. Facciamo il secondo giro. Quindi lei chiuda col primo che così poi... Sì, beh, insomma, bisogna investire in formazione, orientare la formazione verso queste nuove competenze per colmare questo gap che abbiamo individuato. Quindi formazione a tutti i livelli, fin dalle nostre scuole elementari e poi via via, le scuole superiori, l'università e poi la formazione continua, continua, no? Perché bisogna continuare, bisogna imparare ad imparare, non bisogna mai fermarsi. Anche perché ci raccontavano prima che, insomma, l'impatto, diciamo così, dell'intelligenza artificiale, vediamo che ogni giorno ce ne sono le novità e quindi anche solo per cominciare ad imparare poi nuovi modelli e anche lì ci vuole una formazione continua sia da parte degli insegnanti sia da parte poi di chi deve apprendere. Francine, amministratore legato all'Accademia di Costume e Moda. Lei ci può portare dritti dritti dentro il suo settore e raccontarci come si sta trasformando in questo scenario. Sì, io, giusto un incipit, mi riaggancio a questo concetto di rivoluzione industriale, se vogliamo, perché se no non si capisce dove siamo. Quindi do giusto due dati. L'umanità è passata da pochi a un miliardo di persone in dieci mila anni, fino a 1700-1800. Nei cento anni che sono seguiti abbiamo raddoppiato da uno a due miliardi. Dal 1850 circa, diciamo, ad oggi, siamo a 7-8 miliardi. Se uno traccia un grafico, questo è una curva esponenziale. Chi di voi ha studiato matematica e o ha avuto modo di considerare i fenomeni esponenziali, capisce come l'essere umano non è strutturato mentalmente per capire i fenomeni esponenziali. Noi siamo strutturati per capire fenomeni lineari, cioè che crescono un pochino alla volta in modo così. Mentre se noi vediamo la crescita della popolazione, la crescita del debito, la crescita delle quantità di risorse che stiamo utilizzando della terra, vediamo tutti i fenomeni esponenziali. Cioè vuol dire che stiamo arrivando, come dire, alla fine e neanche ce ne accorgiamo. Allora, qual è il problema? Il problema è che il nostro sistema industriale è figlio della rivoluzione industriale, della rivoluzione fordiana degli anni 30, di quello che viene chiamato il linearismo, diciamo, anglosassone americano, cioè l'assunto che l'uomo può continuare a produrre e consumare a tempo indeterminato, infinito, in modo lineare. Peccato che quando mettiamo questo assunto rispetto ai fenomeni che osserviamo sul campo, ecco che vediamo un grafico esponenziale rispetto al nostro assunto di economia, di modello economico e di consumi. Quindi è una rivoluzione nel senso che dobbiamo tutti prenderne atto, dobbiamo parlarne in famiglia, perché se no non affrontiamo ognuno nel nostro piccolo, quotidiano, il vero tema. I sistemi incentivanti dei modelli quindi di consumo e produzione e quindi del management, che abbiamo appena detto, sono basati su modelli di linearismo ad infinito. Ecco, quindi sono d'accordissimo su quello che è stato appena detto, rispetto alla necessità di cambiare tutto il paradigma incentivante. Se noi guardiamo questi fenomeni e aggiungiamo un altro fenomeno fondamentale, che è quello della tecnologia, dell'evoluzione tecnologica, anche se noi guardiamo la capacità del microchip di elaborare dati, anche quella è un'altra funzione, un altro grafico esponenziale. Noi non siamo attrezzati mentalmente, psicologicamente, l'essere umano non riesce a comprendere i fenomeni esponenziali. Allora, arrivando alla domanda, a rispondere, noi formatori come facciamo a immaginare dei percorsi formativi in questo contesto? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo insegnare? Quello che c'è oggi, sapendo che dopo domani non c'è più? Faccio un esempio. Mi raccontano tutti i partner con cui collaboriamo, e vediamo che ormai il 50% degli inserimenti nelle aziende moda, ma è valido anche per altri settori, sono per posizioni che 5 anni fa non esistevano. Sono per posizioni che 5 anni fa non esistevano. E quindi, se guardiamo avanti questo fenomeno esponenziale, tecnologia, sostenibilità, eccetera, cosa dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi? Poi te lo dico dopo. Chiaramente dobbiamo essere un po' schizofrenici, cioè non possiamo esimerci dal non insegnare l'attuale, ma dobbiamo anche insegnare altre cose, etica, moralità, valori, società, umanistica, cultura, progetto, metodologia, cioè cose che apparentemente non hanno un'utilità concreta immediata. Noi per fortuna veniamo dai greci, quindi come società abbiamo alle spalle la cultura, un pensiero filosofico radicato nella nostra cultura. Quindi questo va sicuramente protetto ed esaltato, perché non si sa mai nel futuro come lo utilizzeremo, e insieme le competenze specifiche. Ma queste due cose devono coesistere, perché se no noi formeremo una generazione di persone che sapranno usare l'ultima tecnologia, nel momento in cui la sanno usare è già cambiata, ma poi non sanno come utilizzarla. La tecnologia non è un fine, la tecnologia è un mezzo, è un fine, non limitiamoci ad insegnare a usare l'ultimo programma tecnologico, perché se no non capiremo quello che arriverà domani. Quindi credo che il tema della formazione continua sia fondamentale e noi stiamo cercando un po' di risolverlo attraverso una parte culturale forte, etica, ma anche la collaborazione con le aziende, insieme alle aziende, capire questi verticali, come si stanno sviluppando e come si stanno rinnovando e insieme con le nuove generazioni cercare di dare pensiero nuovo. Lascio la parola alla collega che forse vuole integrare. La giriamo subito, il secondo giro, lo ribattezziamo con Paola Concia che magari ci può mettere a terra, no? Allora, sì, no, perché intanto noi noi che siamo qui dobbiamo fare sistema, dobbiamo svegliarci anche da questo punto di vista. Allora, io per esempio organizzo Didacta Italia che è la fiera della scuola del futuro più importante del mondo e noi ci occupiamo solo ed esclusivamente di innovazione della didattica, di innovazione degli ambienti di apprendimento. Tra l'altro la vostra università è venuta quest'anno perché abbiamo fatto anche Didacta Università. Allora, che cosa facciamo noi? facciamo esattamente quello che dicevi tu, cioè facciamo formazione agli insegnanti, ma gli insegnanti devono costruire generazioni, le nuove generazioni devono essere generazioni. Voi immaginate, la scuola non la potete più immaginare come l'abbiamo fatta noi. se oggi venisse una persona da Marte e arrivasse qui, a parte qui, non qui diciamo, forse, se arrivasse una persona da Marte vedrebbe che tutto è cambiato nel mondo. L'unica cosa che è rimasta uguale è le aule della scuola. che c'è ancora la magna. Ma non è più così, cioè la scuola sta attraversando una grande rivoluzione, non è possibile che la scuola rimanga ferma. Allora, che cosa significa? Per tornare a quello che dice lui, noi, sin dalle scuole elementari, alle scuole materne, alle scuole materne, noi formiamo i docenti che costruiscono generazioni che imparano ad imparare. Perché appunto non imparano le nozioni. Cento anni fa la riforma gentile noi avevamo un paese di ignoranti, no? Cioè eravamo un popolo analfabeta. Quindi, e che cosa ha fatto la riforma gentile? Ha alfabetizzato il paese. Oggi non è più, non abbiamo più questo problema. I ragazzi e le ragazze devono imparare altro. Le nozioni le imparano dal cellulare. Non è più quello che devono imparare. Ma devono imparare a poter usare intelligentemente l'intelligenza artificiale, no? Il metaverso e tutta una serie di strumenti perché quello è la tecnologia. Prima si usava la lavagna e oggi si usa la tecnologia. Questa è l'innovazione della didattica. Non è... Cioè, con l'iPad tu non è che hai fai innovazione della didattica solo con l'iPad. Se non lo sai usare e se non lo sai usare al meglio. Quello che voglio dire è che noi ci occupiamo a didacta di formare la scuola di costruire, aiutare a costruire la scuola del futuro. però, per esempio, per tornare a questo ambiente, cioè, al mondo della moda che è un mondo importantissimo la sostenibilità e tecnologie digitali, noi dobbiamo pensare che noi formiamo... Cioè, c'è una filiera, lo diceva il professore prima, ci deve essere per forza una filiera. Non può essere che io formiamo le competenze nella scuola fino all'ultimo anno della scuola e poi che succede dopo? Deve essere tutto legato agli ITS, gli istituti tecnologici superiori, l'università, i dottorati, le specializzazioni, ma deve essere tutto legato, cioè, non può essere che ognuno va per conto suo. Io capisco che nel nostro paese la cosa più difficile che non riusciamo a fare, e io questo l'ho imparato in Germania, è fare sistema. Loro sono dei Moloch, cioè, viaggiano tutti insieme verso un obiettivo. Non è che so dei fenomeni, tanto non credo che ci sia nessun tedesco qui. Mia moglie sta in Germania, va bene, ma sta in Germania. Ma in streaming ti segue dappertutto in diretta, quindi dai attenti. No, non è che so dei fenomeni e noi siamo dei poveracci. No, no, è il metodo, certo. È il metodo che a noi ci manca. e allora io dico, noi nel nostro facciamo il nostro, però facciamo più sistema perché quelle competenze non è che le costruisce l'università da sola. Se io prima, oppure il tuo lavoro o la tua università, se io prima oggi non ho rivoluzionato la formazione, cioè, non ho cominciato dall'elementare a rivoluzionare l'educazione, la formazione dei bambini e poi dei ragazzi, degli adolescenti, e poi io devo arrivare da voi quando vado all'università o le scuole specializzate o gli istituti tecnico-tecnologici superiori che sono preparati. Non è che tu puoi ricominciare da capo, perché se io non ho, quindi io cambio la scuola, ma bisogna lavorare insieme, questo è un elemento fondamentale. Poi, per fortuna qui si parla di intelligenza artificiale, ma insomma, attenzione, questa cosa dell'intelligenza, noi lavoriamo tantissimo e formiamo i docenti sull'intelligenza artificiale, a come utilizzarla dentro la scuola, ebbene sì. Ecco, ma scusami, ti interrompo solo in modo funzionale, spero. Visto che tu hai il doppio osservatorio della Germania e dell'Italia, perché hai fatto il legislatore in Italia, hai una mozione degli affetti in Germania, ma è un paese dove ci vivi, quindi hai questo doppio osservatorio che ci puoi raccontare di una, diciamo, delle potenze d'Europa fino a prova contraria, anche se anche lì qualche problema adesso c'è. Ecco, ma sul tema della formazione, ad esempio, facci due flash di due strumenti che loro hanno, che noi possiamo così concretizziamo il ragionamento. Benissimo, loro hanno la formazione professionale migliore del mondo, infatti hanno la disoccupazione giovanile al 6%, loro hanno, io l'ho studiato per un anno, quindi so come funziona, la formazione professionale che sarebbe quella appunto di cui voi avete bisogno nel mondo della moda, migliore del mondo. Ecco, l'altro, adesso ce lo puoi magari raccontare, tanto qualche minuto ce l'abbiamo, anche in materia di formazione di migranti, ad esempio, lo Stato tedesco con una operazione di trasparenza straordinaria, lo fece già Angela Merkel, comunicò ai cittadini tedeschi un bel giorno dicendo ce la possiamo fare, non so ce la possiamo fare, mettiamo sul tavolo questi soldi, tanti, per investire nella formazione e ha fatto un'operazione di trasparenza con i propri cittadini dicendo attenzione oltre al tema della sicurezza c'è però un tema che passa attraverso l'integrazione e per farlo noi vi diciamo come si fa, cioè da quando uno arriva là c'è un percorso, non voglio usare la parola militarizzato ma come dire di grande integrazione. Allora, loro, tu appena arrivi la prima cosa che ti dicono impara la lingua entra nel mondo, la prima cosa che devi fare è imparare la lingua, no? Questo è uno slogan del governo, imparare la lingua entra nel mondo. Poi, per esempio, quando c'è stata in Germania ci sono flussi migratori continui, noi facciamo tanti fenomeni, ma lì, appunto, ci ricordiamo i siriani, ci sono stati gli ucraini, i ucraini che stanno in Germania, noi, cioè, sono migliaia di più, se non milioni di più. fanno un sistema che è capace di assorbire e integrare, come fanno? Prova a dircelo con una... Fanno, la formazione è fondamentale, questo, la formazione professionale o per esempio, la formazione in generale, ma la formazione professionale, siccome è la migliore del mondo, loro costruiscono generazioni di operai specializzati che vanno anche poi all'università o che diventano manager, ma lì loro hanno l'agenzia del lavoro che è legata a quella della formazione che fa un lavoro pazzesco, ci sono 300.000 dipendenti in Germania nell'agenzia del lavoro, sparsi per tutto il territorio, che fanno domanda e offerta, che fanno il matching tra domanda e offerta, formano le persone e poi le persone entrano nel mercato del lavoro e la formazione per i tedeschi è fondamentale, infatti non a caso e chiudo perché non voglio, Didacta Italia è la fiera della scuola più importante del mondo, è tedesca. Infatti, siccome lo sapevo era per chiudere il ragionamento. Liberti, riprendiamo da lei che in questo secondo round ci voleva raccontare meglio nel dettaglio non solo il tipo di formazione ma anche tutte le innovazioni che sono già state messe in campo. io parlavo prima anche della ricerca sui nuovi materiali, sui nuovi tessuti che è un po' la nuova frontiera. Sì, noi appunto quello che si diceva che diceva anche Paola Concia, cioè il sistema è il segreto, noi abbiamo nella moda in particolare perché noi abbiamo un panel sul sistema formativo e stiamo parlando anche di moda, abbiamo una fortuna di avere una filiera fortissima perché il nostro sistema in filiera nel settore della moda è straordinario e diciamo se si fa per esempio si paragona la Germania il Made in Italy il Made in Germany è inesistente rispetto al Made in Italy vabbè no BMW la Mercedes ma il Made in Italy è di moda ma la moda è l'Italia diciamo e la nostra filiera è fortissima è strutturatissima e quello che diceva Paola del rapporto del segreto del rapporto tra scuola superiore ITS è assolutamente in università è in continuo cambiamento quello che noi stiamo facendo in particolare in questo panel era sull'anchett FIGITAL quindi su digitale e il green è fondamentale utilizzarlo anche l'innovazione quindi noi utilizziamo anche l'intelligenza artificiale come tools per il designer non è possibile chiudere gli occhi e pensare che tutto si faccia come un tempo è ovviamente fondamentale immaginare come la prima parte della 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 formazione nasca dalla cultura quindi noi fondamentalmente questo è un progetto che stiamo facendo anche questo pilota con la linea pelle che è un'academy di otto settimane fatta nella sede direttamente con le imprese perché sono cambiate le figure professionali in questo momento c'è una crisi in un settore per esempio quello della pelle del settore calzaturiero cioè del 50% di ordini in meno da parte delle grandi aziende prima stamattina avevamo le aziende loro non investono più sulla produzione del made in italy perché sono diminuite le commesse quindi è assolutamente e servono per esempio tutte queste aziende che ci hanno dato borse per fare dei progetti pilota Keton oppure le aziende come Mario Valentino che è uno dei pilastri del made in italy che è nato nel fin degli anni 80 dove i designer Armani Versace e il Karl Agelf ha disegnato il logo cioè partire partire da quello dalla cultura è il segreto e però innovarlo è assolutamente la strategia quindi il rapporto strettissimo con il tessuto imprenditoriale con le nuove generazioni abbiamo la fortuna di avere parlo della Campania perché io fondamentalmente lavoro in Campania ma abbiamo la fortuna di lavorare molto spesso con Milano perché possiamo essere no noi dicevamo i cinesi prima dei cinesi i napoletani erano i cinesi prima dei cinesi perché prima che i napoletani che i cinesi copiassero c'era Napoli non avevamo bisogno dell'invenzione cinese per fare le false Louis Vuitton certo è che adesso siamo la seconda regione produttiva d'Italia la Camp Lombardia ha 33.000 imprese noi abbiamo circa 31.000 perciò investiamo su questo patrimonio di formazione continua in tutti i livelli perché per esempio ci sono troppi designer per dirla però mancano le figure dei modellisti dei tagliatori della ELEITS che sono nate insieme alle aziende insieme alle scuole subito dopo le scuole superiori sono fondamentali perché nel frattempo c'è stata un attimo una pandemia che ha bloccato il sistema mondiale e anche quell'italiano per fortuna è anche accaduta una bella cosa che quando sono stati comprati Gucci non è più italiano Brioni neanche Bottega Veneta sono di proprietà francese per fortuna siamo talmente competitivi dal punto di vista manifatturiero che sono venuti qui a produrre non solo gli italiani cioè Gucci non sono stati spostati ma si sono portati Hermes Louis Vuitton Chanel noi nella nostra regione abbiamo aziende cioè la proprietà è cambiata ma invece tutto il know-how è rimasto qui anzi vengono a cercarlo producevamo per Gucci l'azienda di Arzano che produceva o di Frattamaggiore che produceva per Gucci essendo Gucci del gruppo aveva anche Louis Vuitton oppure gli altri marchi francesi hanno trasferito la produzione perché noi siamo assolutamente competitivi con la Francia cioè non c'è proprio dal punto di vista manifatturiero noi siamo straordinari cioè forse tranne l'Italia tutti gli altri lo sanno però questo è il segreto per cui quelle figure sono assolutamente in linea e devono essere in linea cioè noi dobbiamo lavorare a stretto contatto con la scuola a stretto contatto con le industrie e assolutamente con tutti gli altri attori che sono presenti anche grazie a questa manifestazione Confindustria Ministero le Made in Italy cioè è assolutamente così quindi l'aspetto anche come lei ricordava fondamentale è quello che anche le scuole i studi tecnici in qualche modo siano al passo anche della concezione della formazione dell'aula stessa ora certo noi facevamo i progetti si chiamano PCTO poi si chiamano ITS Academy noi continuamente anche noi alternanza scuola lavoro cioè noi adesso facciamo abbiamo anche noi due ITS dove lavoriamo che chi esce da quel percorso entra in un'azienda sappia quali sono i nuovi strumenti che si utilizzano ecco perché ma sì perché l'ITS Academy per esempio che questo strumento che non è fatto è fatto da docenze sia di universitari sia di docenze però è fatto in stretta connessione con le aziende allora torniamo all'università come il sorbastore così poi abbiamo richiuso il giro l'avevo stoppata nel momento emozionale nel quale lei stava e lecchiandoci invece anche qui per rimanere al tema di Paola Concia della formazione degli strumenti nuovi che utilizzate funziona? facciamo a cambio eccoci qua questo lo sì quindi benissimo importantissima la formazione dei profili professionali operativi indispensabile per il nostro sistema produttivo ma noi dobbiamo anche produrre cultura dobbiamo produrre competenze per i leader sostenibili no dicevamo prima allora in questo Sapienza indubbiamente ha una responsabilità grande perché è l'ateneo più grande d'Europa 120.000 studenti 3.500 docenti 3.500 PhD students quindi una potenza di fuoco in termini di innovazione e di capacità di contribuire alla formazione della nuova classe dirigente veramente significativa quindi una grande responsabilità poi oltre alla quantità ci sarebbe anche la qualità perché Sapienza è nei ranking internazionali l'ateneo italiano che si posiziona ai livelli più alti con delle eccellenze assolute come quelle degli studi classici primi nel mondo ma al di là dello spot che però ho approfittato per fare come si inserisce la sostenibilità beh la sostenibilità è parte fondante del piano strategico dell'ateneo e noi abbiamo un proretore alla sostenibilità diversity ed inclusion sono due parole d'ordine proprio in tutte le strutture che permanono i nostri processi e la nostra attività e per quanto riguarda la formazione ci sono tante iniziative potrei citare mi piace menzionarne un paio c'è un corso di diciamo introduzione ai temi della sostenibilità ricordiamoci ambientale sociale ed economica che viene offerto a tutti gli studenti dell'ateneo quindi 120.000 studenti a prescindere dalla loro provenienza in termini di facoltà disciplinari permettetemi di comunicare attenzione alle prime file saluto intanto la grande star Cabilame ciao buongiorno attivista internazionale un grande applauso facciamo una vera grande star per i diritti umani opinion leader con i più folli del mondo rischiamo di farlo cadere e quindi mettiamolo in un posto sicuro quello è sicuro questi banchetti sono sostenibili però insomma era per dargli il benvenuto in realtà allora vi stavo raccontando di come Sapienza interpreta il tema della sostenibilità in maniera veramente molto molto profonda e convinta in termini di aggiornamento dell'offerta formativa pensate che noi abbiamo 309 corsi di laurea 309 ma sono continuamente sottoposti ad una innovazione gli ultimi corsi che abbiamo introdotto sono filosofia e intelligenza artificiale scienze matematiche per l'intelligenza artificiale oppure medicina high tech pensate quanto il mondo della salute si stia profondamente modificando grazie all'introduzione delle nuove tecnologie quindi un impegno continuo all'innovazione dei percorsi formativi che realizziamo anche sulla base dell'interazione molto stretta che abbiamo con le istituzioni e col mondo produttivo ad esempio abbiamo un tavolo con 36 tra le maggiori organizzazioni che operano nel nostro paese la consulta con le imprese che ha tra i suoi obiettivi anche quello di darci dei feedback delle indicazioni sul come aggiornare perfezionare continuamente i nostri corsi ma questi sono soltanto alcune dei nuovi insegnamenti anzi delle nuove discipline che avete messo a terra sì naturalmente il tema della sostenibilità nell'innovazione è presente quasi ovunque però ci tengo a sottolineare una cosa sì l'interazione con le imprese sì raccogliere feedback ma noi siamo profondamente convinti che dobbiamo formare delle figure professionali cosiddette T-shape a forma di T dove c'è il gambo della T che è la verticalizzazione sulle competenze specifiche rispettive ad un certo ruolo la testa della T invece significa tutte quelle competenze trasversali che fortificano come dire il professionista e l'individuo in tutta la sua vita professionale e personale quindi la leadership la capacità di analisi il spirito critico benissimo è da lì che si deve partire queste sono le figure professionali che abbiamo bisogno sono le figure professionali che potranno trasformarsi in leader della sostenibilità avrei tante cose da dire ma passo il microfono ho visto che il tempo scorre per chiudere noi siamo all'opposto nel senso che la sapienza è sicuramente l'università più grande d'Europa noi invece siamo piccolissimi siamo circa 500 studenti ma l'accademia di costume e di moda nasce nel 64 quindi quest'anno facciamo i 60 anni ed è stata la prima accademia a occuparsi di formazione moda a livello diciamo universitario quindi noi da sempre siamo piccoli ma diciamo così cazzuti nel senso che mi piace no abbiamo stoganato nel senso che noi abbiamo negli anni anche oltre Tevere diciamo formato direttori creativi come Alessandro Michele Di Gucci che adesso è da Valentino Frida Giannini prima di lui vincitori dei Davide Donatello per il costume eccetera eccetera no no però io dico noi siamo piccoli quindi Presidente della Repubblica è un allunno sapienza ecco Presidente della Repubblica è un allunno sapienza quindi siamo e questo per dire cosa che a Roma a Roma ci sono delle eccellenze quindi in Italia ci sono delle eccellenze e quindi l'Italia appunto usiamola cioè usiamole queste eccellenze il nostro modello formativo è chiaramente diciamo così basato su grande percorso culturale ma anche con i distretti come dicevamo prima e con le aziende quindi anche se siamo 500 studenti circa abbiamo più di 150 aziende con cui collaboriamo attivamente dentro i progetti didattici cioè dentro la didattica e quindi è continuamente rinnovata e chiaramente sono sia i grandi brand da Ferragamo Fendi Valentino eccetera ma anche tutti i distretti tutte le tutte le concerie tutte le filature tutte le meravigliose aziende del tessile che sono tra Biella e il Comasco quindi andiamo dentro tutti i distretti e questo lo facciamo da tanti tanti anni ed è anche uno dei vantaggi dall'esistere da così tanto tempo ed essere così focalizzati su un verticale e cerchiamo di fare sistema sempre e con sia istituzioni altri enti formativi piuttosto che tutto il il tutti i distretti produttivi quindi sicuramente in Italia abbiamo tutto da un punto di vista di economia circolare da un punto di vista proprio della della sostenibilità e quindi dobbiamo prenderci conto di questo di questo asset che c'è in Italia e invito anch'io tutti quanti a fare sistema andarlo a scoprire cioè facciamo accordi parliamoci mettiamo a fattore comune tutte quelle competenze che esistono in questo paese perché se no la sfida globale tendenzialmente rischiamo poi di perderla e quindi così chiudo con questa chiosa allora grazie siamo dentro i tempi abbiamo guadagnato anzi forse anche 4 minuti grazie ai nostri ospiti e ora procediamo con il grazie a tutti voi con il prossimo con il prossimo incontro ciao arrivederci chiamo sul palco visto che abbiamo anticipato uno dei panel questo era uno dei momenti tra i più attesi di questa giornata inclusione il diritto a esistere ve lo lancio così il razzismo nella moda è stato un problema persistente caratterizzato dalla mancanza di rappresentatività e inclusione delle diverse etnie e culture del settore le passerelle e le campagne pubblicitarie spesso riflettono standard di bellezza eurocentrici escludendo le persone di colore e allora vorremmo capire come invertire la tendenza e soprattutto quanto su questo la comunicazione può fare allora chi meglio di e qui un nuovo grande applauso io lo possiamo fare sia per chi ci segue da casa che lo farà da casa sia chi è qui in presenza Cabilame buongiorno che con i suoi 245 milioni ciao david ciao come di qua 245 la voglio ripetere milioni di followers è la persona più seguita più seguita su tiktok ha iniziato ce lo lo conoscete facendo dei video a casa durante la pandemia la sua genialità il suo talento è venuto subito fuori ora sta switchando nuovamente nella sua vita perché il suo sogno che sta realizzando è quello di fare di fare l'attore hai fatto Italia's Got Talent anche con un mio carissimo amico peraltro che si chiama Valdo Gamberutti che voglio citare e la cosa divertente è che qui c'è un nero e c'è un ebreo che ti intervista siamo perfetti non manca nessuno l'ebreo e il nero mi sembra meraviglioso tutto questo Alessandro Onorato buongiorno che è assessore ai grandi eventi sport turismo e moda di Roma Capitale accomodati assessore buongiorno dottor Carlo Corazza direttore dell'ufficio del Parlamento Europeo in Italia l'ho intravisto eccolo qui e Nicola Paparusso CEO African Fashion Gate ciao come stai Carlo? ciao ciao allora il tema è assolutamente affascinante e quindi voi lo conoscete il com'è il il motto di Cabilame quello che lo ha reso quello che lo ha reso celebre fammelo una volta dai ti prego che ci fai fatto allora io vorrei ingaggiare Cabilame perché mancando praticamente tre no questa è una piccola parentesi mancando tre giorni al voto sarebbe bellissimo che tu ma non lo facciamo qua magari lo faremo un'altra cosa spiegassi la campagna elettorale incomprensibile alle volte con la tua capacità di tradurla in modo in modo semplice perché tu hai avuto questa genialità quella di raccontare cose cose complesse e farle diventare semplici partiamo da qua dalla tua storia e da quanto in realtà si può fare per cambiare la percezione del tema dell'inclusione partiamo da una tua riflessione qui chi è che mi sta chiamando non è possibile rispondere prego dimmi tutto no ti volevo chiedere partendo da qui dalla tua storia dalla tua esperienza di un uomo che è diventato ormai un simbolo conosciuto in tutto il mondo partendo da alcune situazioni da alcune gag che ti sei inventato in casa durante la pandemia questa è la tua partenza la tua storia ho iniziato durante la quarantena quando persi il mio lavoro come muratore e ho iniziato a fare video comici ma non subito all'inizio ho fatto video in silenzio facevo ogni tipo di video di video comico ne facevo 5-6 al giorno avevo tanto tempo libero durante la pandemia poi non si poteva uscire dovevo stare a casa un po' come tutti e mi sono messo a fare mi sono messo poi a fare video comici poi quando ho incominciato a fare video muti spiegando le cose semplici facendo cercando video nei social media e semplificandoli facendo vedere quanto fosse facile fare una cosa senza complicarsi troppo la vita i video sono diventati più virali fino a diventare a livello mondiale la cosa assolutamente affascinante della tua storia è che sostanzialmente tu grazie alla rete cioè la rete Instagram TikTok eccetera è stato per te uno strumento per farti conoscere anzitutto ma anche un grande strumento di emancipazione sociale cioè quando qui si parla di innovazione dell'impatto della tecnologia in realtà per te la vera svolta è stato l'utilizzo di un telefonino di un'immagine che ti ha cambiato la vita l'utilizzo dei social media quello ti ha cambiato ma mentre facevi questi video quando è che hai avuto la percezione se la domanda non ti piace che cazzo stai dicendo chiedibilo pure perché io non sono abituato a questo tu mi puoi dire ma che razza di domanda è mi fa schifo la tua domanda me lo puoi dire tranquillamente non ti preoccupare io sono corazza lo sa andavo al Parlamento Europeo a molestare tutti corazza quando stava lì si ricorda perfettamente quando hai avuto la percezione che la tua vita stava cambiando quando ce l'hai avuta? quando cominciavo a fare sui 15 milioni di follower al giorno cominciava esserci una salita vertiginosa e lì mi sono accorto che c'era qualcosa che stava cambiando forse l'hanno detto te l'hanno fatto notare in tanti ma la tua comicità è una comicità quando hai detto a un certo punto che sei passato dalla parola al muto no? non al bianco e nero diciamo al muto quando sei passato al muto passando al muto hai involontariamente riportato alla luce dei più anzianotti onorato e giovane di noi onorato tu conosci un po' di video quanti followers hai tu onorato ad esempio facciamo subito creiamo subito un minimo di imbarazzo l'assessore onorato che per carità è conosciuto abbiamo censurato onorato funziona ok quanti followers hai tu onorato io ho 20.000 su Instagram lui 200 io voglio ripetere 245 milioni tu 20.000 lui 245 milioni di followers assolutamente lo conosco anche se i miei nipoti mi considerano un boomer io già sono nella categoria un po' andata come dire però lui è una storia incredibile una storia stupenda e credo sia anche una storia di ispirazione per tantissimi ragazzi e ragazze cioè partire da una propria idea magari io non lo so perché non voglio interpretare il suo pensiero però da quanto ho letto e anche ha avuto modo di studiare sui suoi racconti da un'esperienza di fallimento c'è un'esperienza di successo incredibile quindi credo che sia il più grande cioè fallimento subito come succede ad ognuno di noi perdo il lavoro pandemia licenziamento mi creo una strada ci credo fatico i follower contano contano poco alla fine io faccio video per far per far ridere le persone poi quello che viene viene in seguito e adesso vorrei introdurre proprio però il tema che ci chiedono di affrontare che è la questione del diritto di esistere il tema il grande tema dell'inclusione riparto da te e poi risento tutti gli altri in realtà lo sappiamo bene perché la letteratura prima il cinema la televisione le campagne pubblicitarie hanno il potere e la forza di cambiare l'immaginario collettivo io non so se tu nella tua vita da italiano hai subito da quando sei venuto dal Senegal in Italia ti sei mai sentito hai mai subito episodi di razzismo nella tua vita privata non lo so te lo chiedo se vuoi rispondere se no no io ho abitato ho vissuto per meno dieci anni alle case popolari in via Togliatti e alla fine lì non c'era molto razzismo perché alle case popolari c'è il marocchino c'è il tunesino l'albanese c'è ogni etnia c'è l'italiano lì c'è il denominatore comune che è quello di stare lì nelle case popolari alla fine quello stare là ti salva un po' perché alla fine tutti sono diversi siamo tutti allo stesso tempo uguali quindi tu bello questo spunto quindi tu dici nella mia vita io non ho non ho avuto episodi di razzismo ma giro ai nostri ospiti magari ripartendo anche da Corazza che è il direttore dell'ufficio del Parlamento Europeo le campagne del Parlamento Europeo da sempre impegnate sul tema della sostenibilità e della diversity e in materia di comunicazione ci sono dei grandi strumenti ma c'è una campagna pubblicitaria ma anche il cinema può fare moltissimo per cambiare l'immaginario collettivo cambiamo da qui visto che siamo poi anche a tre giorni dal voto e la centralità e il ruolo che l'Europa può avere in tutto questo come sta il motto dell'Unione Europea è uniti nella diversità l'Unione Europea considera la diversità una grandissima ricchezza viene da una storia millenaria di apertura di civiltà nate sulle isole sul Mediterraneo e abbiamo fatto dell'apertura del mischiare le idee mischiare le culture mischiare i popoli le nostre ragioni di esistere noi non potremmo stare insieme oggi nell'Unione Europea avere un mercato una moneta condividere tutto quello che condividiamo se non avessimo il nostro codice genetico quello di mettere al centro la persona in quanto tale al di là di tutto il diritto della persona di essere come ha voglia di essere di essere diversa peculiare di amare chi gli pare eccetera e prodomomia dico che andare a votare è difendere questa cultura della diversità sarebbe bello se tu riuscissi a fare un video come sai fare tu fantastici su quanto è semplice ma anche quanto è importante andare a votare sarebbe tu sei di ispirazione a milioni di giovani scusa io faccio il mio lavoro spiegare come si vota oggi il voto di oggi è un messaggio all'autocrazia è un messaggio a dei regimi razzisti a dei regimi nazionalisti a dei regimi che escludono la diversità che pensano che omologare sia la via giusta un voto per sostenere la democrazia europea è un voto che esalta la diversità e l'inclusione da questo punto di vista lo ricordiamo si vota tra due giorni e poi magari faremo un tutorial per spiegarlo ma in realtà è molto semplice posso dare fino a tre preferenze e attenzione al genere nel senso che bisogna mettere un uo se decidete di mettere le preferenze dovete mettere un uomo e una donna altrimenti se mettete tre preferenze uomo la preferenza non il voto la preferenza viene annullata ho detto bene Corazza? però chiaramente questo è un va de mecum da seguire non sai la zanzara se è un giornalista serio attacco ci stava tu ascolti la zanzara? no io non l'ascolto no questo mi hai dato un colpo mortale sono sincero ma fai bene certo colpo mortale però Corazza il Parlamento ascolta la zanzara quindi vedete che le istituzioni sono presenti a Radio 24 allora onorato tu hai la delega come sappiamo ai grandi eventi lo sport il turismo e la moda questo tema dell'inclusione e di quanto si può fare in più per mandare dei messaggi dicevo prima nel testo che accompagna questo nostro panel le passerelle le campagne pubblicitarie spesso riflettono standard di bellezza eurocentrici escludendo le persone di colore anche su questo c'è bisogno di un cambio di passo in un settore chiave qual è quello dell'industria della moda non chiamiamola industria della moda ma io mi sento di dire sarà che sto tra gli ottimisti rispetto ai pessimisti che la moda in questo momento sta facendo passi da gigante io ho 43 anni non ne ho 100 e 20 anni fa la moda era esattamente l'opposto di quello che vediamo oggi 20 anni fa era l'esclusività assoluta sia di bellezza di forme ma anche nel prodotto era una forma di vanto avere la pelle del coccodrillo albino degli ultimi 5 esemplari nel mondo viva Dio oggi se qualcuno si avventurasse a fare un prodotto con del pellame con un animale già con un animale in generale incomincia ad esserci un atto come dire di responsabilità nel tipo di prodotto che si fa ma immaginiamo la stessa cosa prodotta nel 2000 non mille anni fa 2000 oggi ci sarebbe un'indignazione popolare enorme possiamo dire che la stragrande maggioranza dei direttori creativi io cito Pierpaolo Piccioli perché mi ricordo ancora la campagna la sfilata di un anno e mezzo fa fatta a Roma che fu emblematica perché fu forse uno dei più decisi nel dire noi non dobbiamo raggiungere l'esclusività noi dobbiamo raggiungere l'inclusione per me non c'è differenza tra uomo e donna non c'è differenza tra colore della pelle c'è differenza di taglia nel tipo di prodotto che gli metto addosso ma la moda ha un valore rivoluzionario forse addirittura tanto quanto la politica perché la moda genera dei modelli genera dei modelli quindi se il modello è l'esclusività delle forme quel modello verrà trasmesso ai giovani nelle scuole e genererà esclusione se il modello supera questo aspetto canonico oggettivamente sbagliato e allora tutti i ragazzi e ragazze in qualunque quartiere popolare o ricco accetterà come modello di bellezza ciò che non è necessariamente canonicamente bello non so come dire anche l'età per esempio fino a poco tempo fa sfilavano soltanto persone tra i 14 e i 23 anni oggi quasi tutti i grandi marchi di moda fanno sfilare persone di tantissime età dai 60 anni ai 18 e c'è body positive i materiali i giovani di oggi io mi sento di dire sono molto migliori della mia generazione o della generazione che mi ha preceduto c'è un atto anche di responsabilità nell'acquisto vogliono capire cosa comprano c'è il blockchain cose adesso li diciamo in inglese li potremmo dire in italiano ma vuol dire la storia cosa c'è dietro quello che mangio figuriamoci quello che vesto quindi io credo che noi dovremmo uno riconoscere le nuove generazioni non sono come qualcuno le vuole far descrivere peggio di quelle precedenti questo è un vizio molto occidentale io sono dell'80 mi dicevano che i miei fratelli del 71 73 erano migliori a quelli del 71 73 dicevano che erano meglio quelli del 60 perché avevano avuto un impegno politico a quelli del 60 dicevano che invece loro non facevano nulla facevano solo battaglie politiche ed erano meglio quelli del 50 che avevano rifatto l'Italia a quelli del 50 dicevano che erano meglio quelli del 30 che avevano fatto la guerra io credo che questo giochino bisogna stroncarlo i giovani vivono la società che noi gli lasciamo ma oggi sinceramente io vedo un'onda molto più positiva e anche questo convegno faccio i complimenti all'organizzatrice va in questa direzione dove ci sediamo che materiale è cosa parliamo di cosa parliamo ecco sono cose di 10 anni fa 20 anni fa erano semplicemente impossibili però ora come dici giustamente tu lo stiamo anche vivendo materialmente nel luogo che ci ospita chiedo alla regia Lumi su come devo procedere sento prima Nicola Bavarusso CEO African Fashion Gate così ci provi a declinare quello che è lo spunto che ho provato a dare prima e quanto in questo caso la moda può fare proprio nell'immagine io sono quasi totalmente d'accordo con l'assessore tanto lui è muto quindi l'assessore ha fatto un intervento molto preciso anche molto come dire pieno di positività perché ci sono ancora nella moda esistono ancora esiste tanto da fare ancora c'è tanto da fare perché quello che si è raggiunto in termini come dire di non racismo è l'uguaglianza sulle passerelle tra le modelle nere e le modelle bianche questa parità di colorazione della pelle sulle passerelle questo accade più vicino al microfono se vuoi grazie questo se ricordiamo non accadeva fino a qualche anno fa fino a qualche anno fa l'unica presente la più eclatante era Naomi Campbell poi erano tutte quante bianche anche lì poche asiatiche c'è stata una battaglia lunghissima dove a poco sono serviti i proclami sui giornali di alcune modelle nere che erano riuscite a diciamo a a a a passaggiare sulle passerelle della moda internazionale ma quello che è servito sicuramente sono stati gli interventi anche al Parlamento europeo attraverso delle interrogazioni parlamentari dove si denunciavano addirittura delle pubblicità che offendevano talunetnie ed è la storia di un bambino che vestiva una maglietta con la scritta che era la scimmia più più bella della giungla ed era un noto è un noto brand quindi c'era tanto di marcio nella moda c'era il fatto che non c'era bisogno di mettere le modelle nere sulle passerelle perché non c'era mercato in Africa perché era un mercato povero non era un mercato utile o da dove c'era ricavo e quindi oggi sicuramente le cose sono cambiate molto c'è da fare ancora ecco ci dico una cosa che stanno facendo l'industria della moda lei ha facendo prima alcuni marchi cioè magari alcune campagne che sono diventate ormai invece patrimonio di alcune grandi aziende che hanno sposato questa causa perché hanno capito che altrimenti anche il loro prodotto forse oltre che essere insostenibile da un punto di vista etico e morale c'è poi anche l'aspetto economico cioè io lo dicevo nel panel precedente quanto sia importante l'economia nelle nostre dinamiche cioè quando c'è il consumatore che lo richiede quando è il consumatore che è consapevole che quel prodotto manda un messaggio negativo non inclusivo nefasto beh il primo è il consumatore che ha uno strumento quindi oggi questa sensibilità c'è sì ma quanti lo fanno perché veramente c'è sensibilità e quanti lo fanno perché conviene te lo chiedo ma in tanti sicuramente c'è una grande fetta che lo fa perché conviene conviene il proclamo della sostenibilità conviene la certificazione poi c'è da vedere quanto è vera è la certificazione quanto veramente c'è di sostenibile anche in questo perché oggi la sostenibilità è diventata una medaglia al petto spesso anche non meritata poi c'è il razzismo conosce si trasforma anche nella sua manifestazione e risiede ovunque nella moda noi lo cerchiamo nelle passerelle ma c'è anche nelle istituzioni faccio qualche esempio molto concreto e anche vicino per una modella africana avere la pari opportunità di venire a spilare alla Milano Fashion Week o alla Parigi Fashion Week è quasi sempre impossibile e sapete perché? perché le ambasciate non rilasciano il visto hanno delle lunghe liste di attesa peggio di quelle che abbiamo sulla sanità e i terminali delle ambasciate che sono funzionali a chiedere un appuntamento per avere un visto puntualmente non funzionano quindi questa nella peggiore dell'ipotesi anzi nella migliore dell'ipotesi la vogliamo chiamare disattenzione disorganizzazione però esiste e tutto questo noi lo abbiamo denunciato al Ministero degli Esteri lo abbiamo riscontrato nelle varie nazioni quindi il razzismo nella moda non è soltanto qualcosa che risiede dietro i backstage della moda tra i direttori creativi tra i direttori casting è qualcosa che risiede anche nelle istituzioni ed è questo l'aspetto più grave perché la moda può cambiare far cambiare se è fortemente appoggiata anche dalle istituzioni o in perfetto assetto con le istituzioni e noi abbiamo il caso ecco per quanto ci riguarda noi abbiamo sollecitato e concretizzato un protocollo di intesa tra la Camera Nazionale della Moda Lunar che è l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della presenza del Consiglio dei Ministri per appunto vigilare su questo tipo di attività senti voglio richiudere velocemente questo panel con Cavilame e tu adesso che questo tema diciamo del razzismo l'hai mai affrontato nei tuoi video i tuoi 245 milioni di followers è un tema che hai trattato che hai visto che hai vissuto sì sono andato a parlare all'UNESCO in Francia sul razzismo ho parlato con un sacco di ragazzini che mi hanno chiesto domande su come potevano di come vivevano loro vivevano il razzismo praticamente nei social media nei commenti che c'è tanto c'è tanto anche razzismo nei commenti abbiamo parlato abbiamo ho aiutato questi ragazzini a a fargli capire che alla fine un commento di una persona chissà dove dove si nasconde a scriverti quel commento vale poco e niente e ho fatto questa bella esperienza all'UNESCO che è stata molto importante per me questo mi sembra molto interessante quello dici cioè tutti questi come a tutti noi sarà capitato chi più o chi meno di avere i cosiddetti haters che ti scrivono e ti fanno un commento un commento sgradevole e tu dici guarda fregatene perché tanto quella persona chissà sì ma gli haters alla fine io vado d'accordo con gli haters gli haters sono i fan numeri uno bellissimo è che sono sempre appena posti qualcosa sono sempre lì a commentare o a scrivere qualcosa alla fine chi più degli haters ti segue bello grande lezione di marketing lezione geniale di marketing viva quelli che mandano a fare i culo diciamolo così possiamo dirlo così in modo forse un po' volgare però ogni tanto bisogna fare la famosa zanzarata corazza quella va fatta senti quindi questo è seriamente è un bellissimo messaggio ma tu hai ricevuto tra i tuoi tanti io ne ricevo ogni giorno raccontaci un po' cosa ti scrivono questi followers questi haters cosa ti scrivono non mi metto neanche a dire cosa mi scrivono ma per me è niente non mi pesa neanche non ti dà fastidio non c'è mai stato questo è interessante perché tu comunque hai come dire la forza evidentemente tua che ti sei costruito anche nel corso degli anni di avere questa questa capacità anche di resistere alle critiche ma il tuo messaggio è bello proprio per questo perché probabilmente anche per molti ragazzi per molti immigrati di prima generazione vedere che tu ce l'hai fatta dallo scantinato dalla terrazza di casa tua nella profonda provincia italiana è un messaggio potentissimo se uno ci crede davvero può arrivare può arrivare ovunque poi dipende sempre da quanto da quanto ci crede e da quanto vuole arrivare dipende sempre da lui posso fare un intervento proprio su mi viene in mente se Cavi Cavi anni fa ancora non era così diciamo celebre non era così forte un giorno mi disse io un sogno ce l'ho ancora da realizzare è quello di girare un film con Willy Smith beh ci siamo ho già fatto ci siamo appunto è il bad voice è riuscito in questo e sta facendo ancora lui poi ha un eccesso di come dire di modestia non riesce a esprimere esattamente le cose belle che fa perché è veramente uno molto modesto un soggetto molto modesto però lui in questo momento sta facendo tanto tante sono cose che ancora serve come diciamo segreto perché fanno parte ancora di quello che sta facendo però è nel prossimo bad boys questo sì qualche secondo piccolo cameo in questi giorni andiamo verso la chiusura gira una ma non so se si può fare siamo in campagna elettorale però forse si può dire è una notizia dai non mi cazziate è un fatto gira un video di Matteo Salvini che fa una campagna contro l'Europa sulla bottiglia sulla bottiglia dell'acqua di plastica in particolare che dice non si riesce sul tappo dice no non so se l'hai visto tu questo meme no non l'ho visto non ti occupi di Salvini va bene se no poco male no no non volevo mettere in bocca perché poi dicono no lui ha detto che sai chi è Salvini sì 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 lo conosco di persona anche no no Vannacci lo conosci Gira Vannacci neanche Vannacci perfetto adesso facciamo in par condicio anche dall'altra parte Salvini fa questa cosa che apre la bottiglia no e poi dice che siccome l'Europa è tutta allora dice che non si riesce a bere l'acqua perché adesso qui non lo posso fare perché questa qui non è di plastica nelle bottigliette di plastica se ne hai una si apre e tu devi damogliela lui ah no quella è anche aperta non si può fare volevo farti rifare il video di aprire la bottiglietta d'acqua come meme però non si può fare è tutta unicità prego corazza per chiudere questo momento poi abbiamo il prossimo il prossimo pane vedo già il presidente Conte che sta che sta arrivando l'ultimo messaggio che possiamo lanciare su quello che si può fare su questo tema se voi vedete la comunicazione dell'Unione Europea è super inclusiva è molto importante è molto importante quello che ha detto l'assessore il cinema la moda la cultura deve dare dei messaggi chiari sulla diversità allora grazie grazie agli ospiti grazie a tutti voi grazie capirà ma in bocca al lupo per la tua carriera nel mondo del cinema ciao ciao grazie ciao ciao e mentre facciamo questo cambio si spostatevi pure qua perfetto l'incontro intanto tra Cabilame e Conte benissimo momento storico grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Ci siamo? Allora, diamo il benvenuto a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e, diciamolo subito, non candidato alle elezioni europee che ci sono tra due giorni. Non candidato, no, certo. Partiamo da qua, comodiamo. Ci sediamo. Non candidato perché, l'ho detto da subito, nel Movimento 5 Stelle noi ci battiamo per la trasparenza, per la legalità e non può essere che i cittadini ormai si arrivano a prendere in giro anche persino nella scheda elettorale, mettendo un nome fasullo, quella si chiama truffa, truffa elettorale e bisogna dirlo chiaramente perché se addirittura il Presidente del Consiglio non si è mai visto in nessun paese europeo si cambia con questo nome e molto astutamente dice chiamatemi Giorgia, mettete il nome Giorgia per prendere dei voti in più, questo è un mal costume della politica che non possiamo accettare. Quindi noi lo respingiamo e diciamo chiaramente agli elettori che poi saranno liberi di decidere che questa si chiama truffa elettorale. Ora veniamo subito ai temi della sostenibilità e del green, ma su questo io sono andato a farmi una piccola ricerca e ho visto che effettivamente l'Italia tra i 27 paesi è un unicum, c'è soltanto un altro caso in Europa, un unico altro caso di leader che si candidano, quindi anche da questo punto di vista sono andato a vedere e ho detto ma che succede? In Francia com'è? In Germania com'è? No, da nessuna parte, soltanto da noi e in un altro paese dell'Unione Europea ci sono dei leader o dei Presidenti del Consiglio che si candidano per poi non andare. Posso fare un'osservazione? Vedete noi abbiamo, si è parlato tanto e spesso quando giro l'Italia mi ringraziate per la gestione della pandemia e per i 209 miliardi che abbiamo portato, però vedete quei miliardi nonostante lo sforzo fatto per imprimere una svolta in Europa, noi non saremmo mai riusciti a portarli in Italia se non ci fosse stato un paese che con grande responsabilità osservava le regole. Si è dimostrato la comunità nazionale all'altezza della situazione drammatica vissuta e siamo stati un esempio in Europa e per questo che io ho potuto vantare credibilità e convincere in quel percorso eccetera. Oggi invece l'Italia come si presenta? Come l'unico paese in cui il Presidente del Consiglio inganna gli elettori, come altri leader, come il paese con cui altri leader ingannano gli elettori per prendere voti, come il paese in cui c'è un Ministro indagato con accuse molteplici, gravi, Santanchè e invece rimane lì incollata alla poltrona difesa dai suoi sodali di partito. Lo dico perché lo dico sempre ma poi ho saputo che la Santanchè verrà qui fra un po' e forse piuttosto che esportare il Made in Italy, di questo stiamo parlando, dovrebbe dimettersi e farci fare più bella figura. Va in giro l'Italia come il paese che dopo aver fatto dimettere un sottosegretario alla cultura lo candida all'europeo. Ecco capite che prestigio, qui c'è una caduta verticale di prestigio, negli altri paesi questo non succede. E il riferimento era, per non farne nomi né cognomi, a Vittorio Sgarbi. Veniamo subito ai temi della sostenibilità ma l'altra questione, diciamo c'è una cosa che accomuna Conte a Salvini, il fatto che anche Salvini abbia scelto di non candidarsi. Proprio oggi Salvini ha detto gliela faccio commentare fresca, poi andiamo sul green che è un tema che so che sta molto a cuore al suo movimento. Salvini oggi dice andrò presto da Trump, anzi chiama Trump, leggo dalle agenzie, dice lo vedrò in estate, tifo per lui, è un perseguitato come Berlusconi, è l'unico leader italiano però ad essersi in qualche modo espresso anche rispetto alle prossime elezioni di novembre negli Stati Uniti. Lei però con Trump aveva un rapporto, forse ce l'ha ancora, l'ha più sentito lei Trump in questi mesi? Guardi, io quando ho terminato l'incarico di Presidente del Consiglio non ho più utilizzato per finalità private o anche politiche di partito i numeri di cellulare che conservo nel mio cellulare perché credo che la politica si faccia seriamente, ho avuto ottime reazioni sul piano personale, abbiamo lavorato con Trump, con tutti gli altri leader ma credo che quando smetti un incarico di Presidente del Consiglio non abusi a fine privata dei rapporti che ti sei costruito nel tempo. Quindi lei aveva proprio il cellulare privato di Trump e quindi non l'ha più utilizzato? Di vari ovviamente ci si scambia con vari leader in giro per il mondo, ci scambiano anche i cellulari, ci si messaggiava anche, io non l'ho fatto più. Le posso chiedere qual è in Europa o nel mondo un leader che la vede in qualche modo affine, che ha una sua simpatia, che vede che potete avere un percorso comune? Guardi, un leader che sicuramente ha una grande sensibilità sul piano della giustizia sociale e ambientale è l'Ula del Brasile. Allora questo ci può portare dritti dritti sul tema della sostenibilità, no? In queste ultime, se non le mancano due giorni al voto, ma questa famosa agenda Timmermans, noi ci siamo visti anche in diverse occasioni, eravamo a Confindustria qualche giorno fa, ma ho visto che questa agenda Timmermans è stata sostanzialmente sconfessata anche dagli stessi sostenitori, da quelli che avevano appoggiato il commissario Timmermans, no? Perché si dice che questa transizione che ci impone l'Europa è dolorosa, ci costa, eccetera. Lei che valutazione dà di questo e la sua pattuglia parlamentare che andrà a fare a Bruxelles? Ma guardi, innanzitutto permettetemi un attimo una piccola autocelebrazione. Un ONG indipendente Bluma ha certificato che tra le forze politiche italiane quella più green dopo aver esaminato tutti i nostri atti parlamentari all'Europarlamento, tutte le iniziative, emozioni, emendamenti, eccetera, è il Movimento 5 Stelle, il partito italiano che si è rivelato più green all'esito di questa legislatura europea che sta terminando. Questo mi fa molto piacere. Noi siamo stati fondamentali per imprimere il Green Deal europeo con la Commissione von der Leyen. Io sono stato fondamentale nel Consiglio europeo per indicare la von der Leyen e per orientarla subito con questa forte impronta green. Gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle sono stati risolutivi e determinati con i loro voti poi nel passaggio all'Europarlamento. Questo asse politico quindi lo rivendichiamo. Certo, adesso purtroppo non ci siamo più noi, non siamo più al governo, è cambiato il vento, è vero che ci sono anche dei conflitti, però noi siamo fortemente rammaricati, dispiaciuti, perché quella che era una transizione ecologica e digitale ormai sta tramutando in transizione militare, né più e né meno. Cioè in sostanza oggi in Italia e in Europa e in Italia si sta correndo, si è ormai abbracciato questo delirio collettivo della corsa al riarmo, sempre i maggiori investimenti militari. Se voi leggete le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo, se voi leggete i programmi che ormai nei documenti ufficiali europei prevalgono, qui si parla solo di investimenti militari. ci stiamo dimenticando, rimuovendo invece il grande sforzo anche finanziario che richiede una transizione ecologica. Che io dico rispetto a Giorgia Meloni, che invita e dà un messaggio completamente sbagliato, invita a non fare una transizione ideologica, non solo Giorgia Meloni, anche Salvini si battono per questo. Io dico guardate che è un messaggio sbagliatissimo, perché così rappresentate all'opinione pubblica che quasi siamo alle prese di un'opzione culturale, per cui uno la pensa in un modo, uno in un altro. È una necessità vitale. Allora la lotta contro l'inquinamento atmosferico, contro il consumo di suolo, la lotta contro i cambiamenti climatici, la lotta contro, una grande battaglia nostra sarà contro gli allevamenti super intensivi che peraltro trattano con crudeltà gli animali. Tutto rientra in una transizione ecologica e noi dobbiamo finanziare questa transizione ecologica, dobbiamo finanziare questa riconversione industriale, dobbiamo fare in modo che i costi non si abbattano sulle famiglie che vogliono abbracciare pratiche virtuose e non invece concentrare tutte le nostre risorse per scommettere, come ci dice Giorgia Meloni, sulla vittoria militare sulla Russia. Quella scommessa di fatto, e non ce l'auguravamo, attenzione, la stiamo perdendo, molto più intelligentemente, molto più proficuamente, dobbiamo orientare e costruire un percorso negoziale che ci porti a una via d'uscita che non sia la terza guerra mondiale dove ci stanno trascinando. Ora torniamo alla questione Grimp che ha dato diversi spunti, voglio chiederle anche una cosa sul nucleare, ma visto che ci ha portato un attimo sul conflitto russo-ucraino, lei quindi oggi pensa, ad esempio, che visto quello che sta accadendo sul campo sarebbe utile anche interrompere la fornitura di armamenti alla Russia, secondo lei? Cioè è questo il momento per farlo? Guardi, noi... All'Ucraina, ovviamente. Vorrei chiarire, il Movimento 5 Stelle ha un bello obiettivo nella sua carta dei principi, la pace, ma non siamo dei pacifisti astratti, cioè non è che vogliamo smantellare, ad esempio, gli eserciti professionali, Certo, quella idea balzana di Salvini da campagna elettorale della leva obbligatoria è una stupidaggine perché ai nostri figli, ai nostri giovani non dobbiamo mettergli il metto in testa, il giubbotto antiproiettile, dobbiamo offrirgli tirocini retribuiti. Però dei militari abbiamo bisogno comunque, no? Dei militari, dico, comunque abbiamo bisogno perché i confini... Ma ormai tutti gli eserciti sono basati su professionisti. Anche perché è vero che servono sempre i combattenti, ma ormai la tecnologia militare è così avanzata che servono pochi uomini, professionisti e non certo i nostri ragazzi, ai quali se vogliamo dare un aiuto dobbiamo premurarci di offrirgli agevolazioni per l'acquisto della prima casa, più borse di studio, possibilità di riscattare la laurea a prezzo, a costo conveniente, accessibile, consentire loro di mettere su famiglia. È questo che ci chiedono i nostri giovani, non una leva militare obbligatoria. Tornando al conflitto russo-ucraino, e concludo, noi, se ci avessero ascoltati, noi all'inizio siamo stati anche favorevoli al primissimo invio di armi, proprio perché non è un pacifismo astratto quello nostro. Però chiesi subito a Draghi, a condizione che ci sia subito l'impostazione di un percorso negoziale. Perché vedete, era già... Era già chiaro che era una follia dall'inizio. Non dovevamo aspettare i risultati sul campo militare. Era una follia accettare lo scontro militare con la Russia con 6.000 attestate nucleari. Un paese che è l'unica vera forza che conserva, al di là di tutto il resto, è l'apparato militare. E invece accettare sui tavoli della Nato, di Washington, di Londra, sono prevalsi i falchi. Si sono avviati tutti i comparti nell'ambito Nato occidentale, i comparti della difesa, dell'industria militare. Non li fermeremo più, perché i nostri governanti non vogliono mettere la faccia davanti a questo schermo e dire che tutte le previsioni fatte si sono rivelate fallimentari. sulla vittoria sul campo, sul crollo dell'economia russa, sul cambio di regime di Putin e via discorrendo. Se avessero invece investito sui negoziati, a questo punto avremmo una via d'uscita per la popolazione ucraina. Perché Giorgia Meloni sbandiera coraggio, forza e coerenza, che si rimangono ovviamente un giorno sì e l'altro pure. ma non sei coraggioso se vai e fai combattere gli altri a tuo nome. Quale coraggio è questo? Allora, da qui volevo riportarla un attimo al tema del green. Le do tre suggestioni. Uno, il nucleare di nuova generazione, l'eolico e il fotovoltaico. Se lei dovesse in qualche modo mettere in ordine di preferenza, cosa immagina per il futuro del nostro paese? E' chiaro che il nucleare di nuova generazione non è quello che abbiamo conosciuto negli anni Ottanta. Concretamente noi dobbiamo fare dell'Italia un hub delle rinnovabili in Europa. Abbiamo 800 imprese, fatturati già importantissimi. Dobbiamo allacciare alla rete entro il 2030 85 gigawatt da fonti rinnovabili. Abbiamo un grande lavoro da fare ed è quella la direzione giusta. Quindi eolico fotovoltaico. Eolico ovviamente con l'accortezza, di farlo con un piano che possa individuare i luoghi destinati a ospitare le paleoliche e soprattutto puntare molto sull'offshore a distanza adeguata dal raggio di orizzonte della costa. Si può fare tecnicamente e va fatto. Per quanto riguarda il nucleare, il Movimento 5 Stelle e la forza, forse, adesso stiamo lavorando tantissimo sull'intelligenza artificiale, per esempio, troverete sul nostro sito del Movimento 5 Stelle un libro verde aperto alla consultazione pubblica. 50 pagine sull'intelligenza artificiale e potete rispondere tranquillamente a un quesito anche come persone singole, fisiche, oltre che associazioni, centri di ricerca, università, perché questa innovazione la dobbiamo gestire insieme in modo democratico. Noi siamo per l'innovazione, quindi assolutamente sì alla ricerca, alla ricerca nucleare, però attenzione, non vi fate ingannare. Oggi si parla di mini-reattori, no? Oggi c'è la tecnologia che ci sono questi mini-reattori che potrebbero... Innanzitutto chiariamo, a parte i nostri referendum che rimangono lì sul piatto e quindi la popolazione si è espressa già, ha fatto una scelta, una scelta che altri paesi hanno fatto solo di recente, no al nucleare, pensiamo alla Germania. Il problema vero è che quando si parla di nucleare l'ultima centrale, quella che stanno realizzando e stanno consegnando a Flamanville in Francia, terzo reattore, non siamo ancora alla quarta generazione, siamo una terza generazione plus, diciamo potenziata. andiamo a vedere i numeri, è stata programmata, doveva, dal 2014, doveva essere consegnata, siamo al 2024, non sappiamo se verrà consegnata. Budget previsionale di costo, 3, 4, 5 milioni, siamo miliardi, scusate, siamo arrivati a 19, 20 miliardi e non sappiamo ancora se occorreranno altre risorse. quindi quando si dice che il nucleare è assolutamente a portata di mano, diciamo che stiamo parlando di terza generazione plus, qualche anno, 4, 5 anni. Qualche anno, eccetera. E voglio aggiungere che... Però non lo escluda. Però aspetti, l'agenzia internazionale, l'agenzia internazionale per l'energia, l'International Energy Agency, ha fatto delle proiezioni, 2050, andatele a vedere. Il nucleare nel 2050 costerà quattro volte l'energia da fonte rinnovabile. Allora io dico, se per una... Oggi fare come ci dicono una scelta nucleare per il nucleare, anche con i mini reattori, small, che siano advanced, che siano i modular, eccetera, noi, minimo minimo, andiamo a realizzare terza generazione plus, rinforzata, otto, dieci anni, noi abbiamo il rinnovabile a portata di mano, costa di meno, il nucleare, avremo sempre il problema delle scorie, smaltimento, e del costo maggiore. Non so se è chiaro. Poi, facciamo proprio che dire la ricerca. Quando ci rassicurerà sulla quarta generazione o addirittura quel progetto che tutti sogniamo, dove ci sia energia pulita senza scorie, ne parliamo. Ne lo prendiamo in considerazione. L'obiezione che qualcuno fa è, attenzione però, perché con fotovoltaico e eolico il nostro fabbisogno energetico non viene coperto e noi abbiamo l'energia più cara d'Europa peraltro. Cioè le nostre bollette. Ma il fatto che sicuramente ci siamo ritrovati al mal partito anche per la pandemia energetica, per ragioni geopolitiche, questo è indubitabile. Però dico, oggi, se io devo chiedere all'Europa e vorrei un presidente del Consiglio che andassi all'Europa con una visione chiara, io chiedo all'Europa un Energy Recovery Fund per le rinnovabili e per fare dell'Italia un hub delle rinnovabili a favore anche degli altri. Abbiamo venuto e mezzo a chiudere. Lo sosterrebbe un italiano alla guida della Commissione Europea Mario Draghi? Mario Draghi ha già fatto la sua esperienza qui. Mi sembra prematuro parlare di singoli candidati ma diciamo che quando abbiamo lavorato con lui come Movimento 5 Stelle su tutte le nostre battaglie abbiamo avuto delle evidenti difficoltà. Quindi non lo potrebbe sostenere, diciamo, anche se fosse un italiano. non lo sostenerebbe. Abbiamo avuto delle evidenti difficoltà. Le agenzie registrano uno sguardo. E quindi non sosteneremo Mario Draghi. È prematuro parlare di candidature. Però gli altri ne parlano in realtà. Io glielo ho chiesto perché... Io posso dire che i nostri voti le dico qualcosa di più. Sì. I nostri voti andranno convintamente per Presidente di Commissione una Commissione che voglia davvero creare una svolta per negoziare di pace. Dica no alla logica dell'austerity che ci fa male. Vogliamo politiche oculatamente espansive. Dica sì convinto alla transizione ecologica e energetica. Dica no alla corruzione. Anche abbiamo visto la corruzione nel cuore dei vertici europei. Qatargate. Non ci dimentichiamo. bustoni di banconote un milione e mezzo in valigie in bustoni di plastica. L'ultima cosa che le voglio chiedere ci riporta invece alla corruzione in Italia. In questi giorni in queste settimane ormai da 28 giorni se non ricordo male il governatore della Liguria è agli arresti domiciliari per le notte le notte vicende. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà un rivia giudizio. C'è la grande questione del finanziamento pubblico. Qui voglio chiudere. Sul finanziamento pubblico ai partiti ad esempio secondo lei è necessario rivedere questa legge e se ad esempio le lobby del fotovoltaico dell'eolico decidessero di finanziare il momento 5 stelle lei lo accetterebbe? Guardate si parla adesso di fronte a questi casi di corruzione la politica come sta reagendo? Innanzitutto in modo indifferente non se ne parla quasi mai anche il sistema mediatico quasi ogni giorno però il dottor Parenzo lo riconosco qui pubblicamente fa eccezione. C'era anche lei l'altro giorno peraltro collegato e io poi mi sono occupato della regione. È un'eccezione il sistema mediatico insieme a tutte le altre forze politiche non ha interesse a parlare di casi dilaganti di malaffare e corruzione pensate che non più di un paio di settimane fa il presidente dell'autorità ANAC sull'anticorruzione ha fatto una relazione i comuni in Italia sopra i 15.000 abitanti uno su quattro è coinvolto in un caso di corruzione da nord a sud non se ne parla non deve essere un argomento di discussione allora come sta reagendo la politica? a parte il governo che sta smantellando presidi di impunità sta cancellando il reato di abuso d'ufficio sta ridimensionando il reato di traffico di influenze vuole addirittura mettere il bavaglio ai giornalisti vuole limitare la possibilità di intercettazioni a chi agli investigatori solo 45 giorni e il Trojan non si deve usare per i casi di corruzione a parte questa indegna reazione delle forze maggiorari le altre forze politiche fanno finta di nulla fischiettano l'unico argomento ma non l'hanno tirato adesso in campagna elettorale lo tireranno fuori un attimo dopo è ripristinare il finanziamento pubblico ai partiti vi faccio un'osservazione qualcuno di voi anche una certa età è sicuramente memoria vi ricordate quando c'era il finanziamento pubblico ai partiti quanto rubavano nei partiti col finanziamento pubblico allora io non è una provocazione propongo un modello alternativo e rispondo anche all'altra sua domanda fate come il Movimento 5 Stelle abbiamo i bilanci inattivo prendiamo solo da poco recentissimamente il 2 per 1000 basato sulla scelta singola vostra di indicare il partito di destinazione 3 accettiamo solo micro donazioni per evitare questo vale anche per le imprese nel rinnovabile di quant'è la micro donazione? la media nostra adesso per la campagna elettorale pensate abbiamo avuto un cospicuo finanziamento con la nostra raccolta e la media è di 30 euro a persona quindi chi arriva a 50 chi a 100 eccetera il limite legale è di 100 mila euro pensate un po' noi vogliamo mantenerci liberi da chiunque noi rifiutiamo finanziamenti io ho una lista di imprenditori che ci vogliono finanziare e ho detto vi ringrazio no una micro donazione sì ma donazioni sostanziose no noi in questo modo siamo riusciti in tutti questi anni a restituire tagliando i nostri stipendi alla collettività pensate un po' 100 milioni restituiti per gli alluvionati dotazioni informatiche alle scuole una serie di iniziative e in più voglio dire non accettiamo acchiappavoti trasfughi pacchetti di voti ecco proponiamo questo modello che sta funzionando a tutti e se mai vedrete che non si parlerà di finanziamento pubblico non ce n'è bisogno grazie a Giuseppe Conte presidente del momento 5 stelle grazie grazie per essere stato con noi buon lavoro grazie davvero grazie grazie a tutti 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 24.it e today.it. Dicevo perché è una storia interessante quella che vi raccontiamo questo pomeriggio, perché è una storia che ha a che fare con la storia del nostro paese, delle nostre nonne, una storia che ha a che fare con quella parte del nostro paese, il sud Italia, Gela nello specifico che fino agli anni 60 ha rappresentato davvero un importante polo produttivo del cotone, era nominata pensate Piana dell'Oro Bianco perché quando si atterrava con l'aereo in quei luoghi dall'alto sembrava di volare sopra campi infiniti di biancaneve. Poi chiaramente con lo sviluppo dei materiali acrilici, dei sintetici, le nonne hanno smesso di filare e coltivare il cotone, è tutta un'altra storia quella che è venuta dopo, che però invece si sta recuperando proprio a proposito dell'importanza della sostenibilità anche e soprattutto nella moda nei tessuti, in una filiera che vi racconteremo dal macro al micro, sia per quel che riguarda le politiche che l'Europa sta adottando già da qualche tempo rispetto al cotone che è stato peraltro da poco, dopo 50 anni di assenza, inserito nella PAC, la politica agricola comune, vi racconteremo la storia dell'Africa, l'importanza che è peraltro inserita anche nei pilastri del piano Mattei, della collaborazione fra Italia e Africa, anche in questo aspetto, vi porteremo in Europa le normative europee con rappresentante di un paese, accanto a me non spoilerò nulla, che è la Grecia, che come l'Italia è stata negli anni un grande paese produttore, esportatore di cotone e poi vi riporteremo là dove avevo iniziato la narrazione di questo racconto, cioè appunto nella piana di Gela, per raccontarvi di una macchina che è stata rimessa in moto, fortunatamente vorrei aggiungere. Io vorrei partire come si fa nelle storie dall'inizio, cioè dal macro. Il macro vuol dire innanzitutto inquadrare in maniera precisa il termine più usato e abusato degli ultimi anni, che è la sostenibilità. Sappiamo che bisogna essere sostenibili, sembra quasi come dire un obbligo etico morale, però abbiamo capito che non è così, che la sostenibilità è anche e soprattutto etica, sociale e ambientale per l'appunto. Allora io vorrei partire con Eric Trachtenberg, che è Executive Director dell'International Cotton Advisory Committee degli Stati Uniti, partire proprio dalla più banale delle domande. Che cosa significa oggi e da questo palco essere davvero sostenibili? Intanto gli facciamo un applauso, così rompiamo il ghiaccio. Allora chiedo alla regia di agevolare i prodotti I don't mean to take your presentation. One moment. No problem. Dalla regia. Well, as I start, first of all I'd like to thank the organizers of the Sustainable Fashion Expo. I'd like to thank you for the opportunity to come to Italy and talk to you more about cotton. Okay, this is in fact the right one. So where do we fit in? First of all I'd like to introduce our organization. What is ICAC? Maybe I won't move back there. ICAC is best thought of as the United Nations of Cotton and Related Products. We were founded in 1939, so we're actually older than the United Nations and we're based in Washington and although I'm an American, we are not a U.S. organization. We are an international organization. We're one of seven international commodity bodies that represent the cotton and related industries and we report to 27 member countries, most of which are in Africa. So what do we do? We do a lot of data, pubblicazioni, strumentazioni. Lavoriamo anche sullo sviluppo dell'agricoltura e poi ne parleremo più in dettaglio dopo. Parliamo sulla sostenibilità, ci occupiamo della sostenibilità e della tracciabilità sui tessuti sul settore privato ma anche per quanto riguarda il sostegno a livello politico e il convolgimento politico. Che cosa vuol dire quindi? Se analizziamo le tendenze del cotton e vediamo che ci sono due fattori, due fenomeni. prima di tutto vediamo che negli ultimi 60 anni non si sta... At the same time, yields were slowly growing for quite a long time but the last 10 or 15 years they've largely been stagnant. But the cotton sector faces a lot of challenges and opportunities and I'm probably going to spend more time on this slide than the others. The advantage is it's a natural fiber, it's not made from oil. It has the potential to reduce poverty, especially in Africa and this is a very important point again I'll get back to. 43% of cotton farmers are women so actually it's a way to promote women's empowerment. It's a powerful tool to fight climate change because cotton can sequester carbon. It's something called the zero fight which means it's suitable for dry conditions and it grows in places where other crops can't. For example, in large parts of the Sahel in Western Africa, cotton is the only cash crop that'll really grow. It's also true in parts of Texas actually. And it's a higher end feel that customers like. On the other hand, cotton faces some problems. It's expensive. There's also a trend to fast fashion, which makes people not want to buy something like cotton. It's a natural product so there is more variability. It's not like polyester nylon where you're running through the factory and it comes out the same all the time. Cotton is heterogeneous. Also, there's a lot of incorrect information about cotton. It's terrible for the environment. It uses tons of water. I'm going to be answering some of those questions later because the truth is very, very different. It competes with other crops. For instance, Brazil, it competes with soybeans and corn. And finally, there is this perception that cotton, you can't use it for certain purposes. But we're also trying to think of ways to change that too. I think one aspect that really needs to be focused on is the critical importance of cotton in livelihoods. So if you look at this chart, it is the number one commodity exported by Benin, number two for Burkina Faso and Mali, number three for Chad, number seven for Cote d'Ivoire. When you're talking cotton and a strong cotton market, you're really talking about cash for some of the world's poorest people. And this is a very important case when you're looking at sustainability, is how do we sustain our planet when we're not really addressing poverty. So this goes back to some of the myths about cotton. Oh, cotton's really terrible. Okay, let's look at the data. Every year, our organization publishes a thousand-page book that goes into the data production of cotton globally. You can access our data on our homepage. What is the truth about cotton? Occupies 2.5% of global land, 1.7% of water. Not the huge numbers you read about in the press. They're just not true. 4.8, 4 to 4, 4 to 5% of pesticide depends if you measure by volume or value. And we only use about 2.8% of fertilizers by volume. So if you look at it, cotton uses a fairly small number of inputs. So cotton isn't poisoning the world. It's just not true. Let's look at cotton in the environment. Cotton emits very low CO2. We all have to wear something. So the question is, what is the best fiber to wear for the sake of our environment? Cotton sequesters carbon. If you produce something from cotton stocks called biochar, it can actually take carbon out of the atmosphere. You have cover crops, which can also help reduce carbon. So as a result, if you compare cotton to all the other fibers, it has one of the smallest carbon footprints. Here's more data. Cotton sequesters half a kilo per CO2 of fiber produced. Cotton fabrics from carbon, from cotton stocks maintain carbon for several years. Cotton lasts longer fabric. The longer you keep cotton sequestered, the more it's out of the atmosphere, causing climate change. There are many different definitions. You often hear this question of, oh we want to be sustainable. But what does that really mean? What is sustainability? What is sustainability? Well, we published a report earlier this year and we looked at, I think, more than 30 different regenerative and sustainable standards to say, what does it mean? And how does it affect real people? So challenges and feasibility of different measures, for instance, no-till and agriculture, cover crops or livestock or livestock or human rights. And so we actually, this is the most complicated slide I've got. Along the top, we looked at regenerative agriculture frameworks. And then we looked at all the practices that you need to do to make those practices, to meet those different standards. So you can see there's a lot of discussion about what it means to be regenerative and sustainable. Now this is a very busy chart, but it's very important because some of these standards are very difficult for small farmers to meet. So one of the real problems is that there'll be a new standard, a new certification, and the small holder farmers just can't do it and they lose their market. I'll use an example of another crop. I used to work in Tanzania and there were small holder farmers selling fruits and vegetables. Then there was a new standard and these poor farmers got poor because they lost their market. So whenever people are looking at standards, you have to be really, really careful that you don't harm poor people. I think the standards have good, I think they have good goals, I think they have very important values, but can't leave the small holder farmers paying the bill in the end. And that's a very important aspect of sustainability. What are we doing? Actually, this slide is a little bit out of date. We're launching a program in Cameroon where we're going to train farmers in sustainable practices. It actually launched last week. So my chief scientist was in northern Cameroon actually launching this project. In Zambia, a similar project doubled yields. And again, that makes a difference for poor farmers. We've done other things. We have a virtual reality training system where basically, I thought it was a gimmick when I first heard about it. We can use VR for training. But in fact, farmers remember things better and actually makes a difference in their production. So it actually works. We have an app where farmers can look for production practices. What are we doing ahead? We're going to be doing a lot more in agriculture development because many of our members in Africa, and frankly, that's just a really important thing for us to do. We're going to be doing a lot more to support sustainability and traceability. And we're also going to be looking at working in Africa with the textile sector to help them add value and create positive livelihoods in the region. At the same time, for the wealthy, for the large cotton producing countries like the US, Brazil, and Australia, we also want to keep telling the truth so that in the end, we can have a stronger global cotton market. We're going to be consulting with our countries to come up with actionable plans. It's one thing. I'll let that go by. Okay. The Doppler effect. It's also very important at the same time, we're going to be also engaging a lot with environmental groups. Because once the truth about cotton is known, I think we can also have environmental groups as allies. But this is the key challenge we all have to ask ourselves. Who pays for traceability? Who trades for certification? Who pays? If the brands don't want to pay, who pays? And so it's a really important question when we think about how to make sustainability real. It's one thing to have theory. It's another thing to have practice. Again, this is our timeline to develop projects that will make a real difference. And... Anyway, that is the end of my presentation. I look forward to hearing from the other panel members and any questions. Thank you. Allora, già un sacco di spunti sono emersi da questa presentazione e diciamo anche qualcosa che è evidentemente alla base delle suggestioni che sono alla base dei motivi per cui l'Europa ha deciso di mettere in cima la sua agenda sostenibile il tema del ripristino della filiera del cotone. Allora, mi interessa affrontare questo tema con Antonio Siarcos che è presidente dell'European Cotton Alliance greco, quindi poi magari ci darà anche, come dire, un... Perché noi sappiamo che la Grecia è stata per anni un grandissimo produttore di cotone. È ancora così? Anche oggi? Piccola, come dire, piccola battuta fuori dal copione e dal programma delle slides. Perfetto. Allora, cerchiamo di capire con lei quali sono i motivi a supporto della messa in agenda nei primi posti del tema del cotone in Europa, le politiche agricole europee. Prego. Sì, io faccio la presentazione e sono abitato a rispondere a rispondere a quali domande. Ok, grazie. Grazie. So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Antonio Siarcos. I'm coming from Greece, but today I'm representing Europe, the European Cotton Alliance. I'm excited to have the opportunity to participate in this special event to such a historical venue. In my short presentation, I will provide more insight into who we are, what the EU cotton label and the EU cotton management system stands for, and why and how the EU cotton can drive the way to more sustainable textiles. The European Cotton Alliance is a European level association formed by the active collaboration of farmers and industries association in the European producing countries, accumulating 100% of the cotton sector in Europe. Among the aims and objectives of the alliance, the most important are to foster the collaboration and cooperation among the cotton producer and the textile industries in Europe, to promote the use of cotton in principle, and European cotton especially among professionals and consumers. Thank you. The EU cotton label is a registered European collective mark attributed to the members of the alliance that they manage to produce cotton in compliance with the criteria set in its regulation of use. The label that you can see at the screen is protected by the provisions of the EU trademark regulation and is registered to the European Union intellectual property organization. In a comprehensive statement, EU cotton is the quality mark that incorporates the identity feature of the cotton produced in Europe. As they concern its high quality and the responsible and sustainable way it is produced. It is grown from non-GMO seeds, achieving a high level of environmental and social performance. High spinability, excellent uniformity, versatility of the fibers, virtually contamination-free crop, machine-picked, efficient logistics, comprises the fiber quality package, of the European cotton. The farming practices used for each production are highly regulated in accordance with the European Union Directive and Regulations of the Common Agricultural Policy and the national quality and certification schemes at the producing countries, reinforcing the implementation of sustainable production techniques beneficial for the climate and the environment. The EU cotton management scheme is an assessment and certification program, a framework of organizing the supply chain from farm to fashion that manages the use of the registered cotton bales within the textile supply chain, the registered EU cotton bales, ensuring full traceability of product flow through the district manufacturing stages. This management system is implemented by registered organizations operating in the textile chain within the European Union, allowing them to use the EU cotton label on their product as long as they comply with the criteria of the certification scheme. The European cotton is well appreciated by the international market, achieving very good performance through exports. Europe is the second biggest consumer of textile products. However, a small percentage of the cotton produced in Europe consumed locally, although the needs for cotton product far exceed the available fiber production. It is not worth it that a large percentage of the cotton exported to other countries returns to Europe as finished textile products. Although Europe has a very long tradition in the textile business, textile business used to be a very traditional business in Europe, like the steam engine of the European economy. The last couple of decades, the sector has been facing tough competition with lower cost-producing countries driving to its shrinkage. The textile production processes in Europe are closely scrutinized based on very strict legislation, environmental rules and social standards. The competitiveness of the domestic textile companies is mostly oriented to niche markets and specialized technical uses. It is widely acknowledged that the European textile ecosystem mostly relies on imports, as you can see at the screen. Given this globalized nature of the industry, companies and retailers must transport their goods and raw materials across many countries. However, global shocks like the health crisis and the COVID-19 pandemic and geopolitical risk, as recently shown by the war in Ukraine and in Gaza, can cause supply chain disruptions and serious implications in the operation of the industry. Given the current situation, it is imperative for the sector to develop different business models. The relentless expansion in textile consumption has a growing impact on the environment, climate change and resource depletion. Many of the pressures created by this increasing consumption can be traced back to fast fashion, low cost, low quality, at great speed production of apparels, often under poor labor and environmental conditions outside the EU. However, there is a growing interest from the consumers, a growing concern on social challenges related with the decent working conditions and the loose environmental controls in these countries. Consumers are increasingly demanding to know the origin of the materials in the garments they buy and the sustainability of their supply chains. And they put a lot of pressure to retailers to provide transparency. Brands and retailers are striving to satisfy this need that consistently demand products produced with high social and environmental standards. The European Commission, in order to address these challenges of the textile sector, has presented recently the new strategy for sustainable and circular textiles. The new strategy basically sets out the vision and proposes action to ensure that by the year of 2030, textile products placed on the EU will be more durable, reusable, recyclable, free of hazardous substances and produced in respect to social rights and the environment. There is no doubt that EU, through this strategy, is advancing more to sustainability of the textile ecosystem. However, there is a growing concern on how the proposed actions and measures will be implemented on textile goods imported in Europe. Within this market and regulatory framework, there is an emerging opportunity for the local textile industry. This opportunity lies on developing regional, resilient, traceable and transparent supply chains that can efficiently and reliably support the advanced requirements of brands and retailers looking to better serve their customer needs. The background here is the changing consumer behavior towards sustainably manufactured textiles, which is an obvious advantage of the European manufacturers. The efficiency is maximized for them when they process locally produced, high-quality raw materials with increased social and environmental value. This is exactly the case of the European cotton, a superior quality fiber that satisfied the needs for manufacturing long-lived, durable textile products that can be repaired, recycled and reused, adopting circular economy principles. A strict regulated crop made from non-GMO seeds that matches the requirements of sustainable sourcing raw materials free of hazardous substances produced in respect of social and the environment. A natural fiber. A natural fiber. A natural fiber. Una prima rinnovabile che definisce la strada verso un'economia circolare fatta di risparmio delle fonti di approfondimento. Un prodotto biodegradabile, chiaramente, dove gli ultimi scarti vengono tradutti in compost e quindi si traducono in una nuova risorsa proprio per la natura. Ma ancora una cosa importante da sottolineare, il cotone europeo è una fibra prodotta a livello europeo che può essere prodotta all'interno di una catena di provvigionamenti locale utilizzando il framework dello schema di gestione. Questo settore chiaramente piena trasparenza di tutto il processo e informazioni dettagliate che serviranno poi nell'etichettatura e anche nel passaporto digitale che accompagnerà questi prodotti. Oltre a questo rinforza anche gli sforzi dell'industria nel minimizzare la propria impronta ecologica dal momento che queste risorse di approvvigionamento sono più vicine al mercato dei consumatori. Quindi la loro vicinanza proprio fisica è il fattore predominante e quindi elimina ogni viaggio extra di prodotti non finiti finché non si arriva poi alla fine al mercato del consumatore finale. E quindi vorrei concludere questa mia presentazione dicendovi che ad oggi la European Cotton Alliance sta attuando delle iniziative ambiziose confidenziate dall'Unione Europea all'interno dello schema di promozione dell'Unione Europea. Quindi stiamo aumentando sempre di più la visibilità del cotone europeo mettendo sempre più attenzione sulla qualità di questo prodotto e sulla sua sostenibilità. Il risultato di questa campagna è proprio quello di sottolineare l'importanza di questo prodotto e far capire quanto sia positiva appunto per tutto il settore tessile. Quindi lavorare su un futuro sostenibile anche dal punto di vista del design lavorando sul cotone europeo è importantissimo. È un prodotto che nasce da semi nono GM lavorato in maniera tradizionale. Questi sono i fattori chiave di questa campagna. Questa è la vera storia del nostro prodotto, quella storia che vogliamo condividere con i nostri prodotti. La nostra vision è quella di lavorare a stretto contatto con i partecipanti della catena del tessile proprio per essere un valore giunto per i consumatori europei e internazionali che chiedono sempre di più prodotti di alta qualità, sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Alla fine della mia presentazione concludo con un video per farvi vedere un po' quello che sto cercando di farvi capire. Spero vi piaccia, dura solo due minuti. Alla fine della mia presentazione 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 Sicilia perché io sono nato in Sicilia, ho studiato moda quindi ho seguito un pochettino la globalizzazione andando via dal territorio che amavo per andare a lavorare inseguendo il mio sogno di moda, ho approdato prima negli Stati Uniti poi sono andato a finire in Cina, sono stato per più di 17 anni in Asia dove mi sono sempre occupato di sviluppo dal campo fino al prodotto finito quindi seguivo tutta la filiera, quindi si andava in India, si andava in Pakistan, si andava in Bangladesh e così via soprattutto in Cina dove si prendevano le materie prime e si trasformavano in quelli che poi erano il fast fashion o il lusso chiamiamolo come vogliamo della moda, si faceva tutto in Asia è il periodo dove l'Asia era a cavallo di questa grande ondata anche perché come hanno detto precedenti colleghi prima c'è stato un momento di cambiamento, tutti quanti si pensava che si poteva produrre fuori e non era necessario produrre internamente, oggi questa cosa sta cambiando, il mio progetto che nasce innanzitutto come mio ma si evolve e ve lo farò vedere strada facendo, nasce per amore per la propria terra come dicevo, nel 2019 io sono rientrato in Italia e posso dire esattamente il 9 aprile del 2019 è nato mio piccolo figlio che adesso ha 5 anni e esattamente il 19 aprile del 2019 abbiamo messo il primo seme di cotone a terra aprendo il primo laboratorio che non si faceva da più di 50 anni in Sicilia, una storia che parte dai nostri nonni, una storia che comunque è legata alla terra siciliana non solo per il fatto di avere antiche produzioni di cotone nella storia ma soprattutto perché il territorio è adatto alla coltivazione del cotone, anzi devo dire che forse è uno dei territori più adatti nel Mediterraneo a questo tipo di cultura. Ma torniamo un attimo al punto dei 5 anni fa, abbiamo cominciato a creare un prodotto, abbiamo messo a terra dei semi, abbiamo cominciato a vedere come questa pianta si adattasse all'ecosistema siciliano, quindi abbiamo cominciato a studiare la pianta e l'abbiamo fatto innanzitutto in biologico sin dall'inizio, quindi abbiamo cominciato a studiare le reazioni della pianta con interventi organici e biologici. Questo dava sì che abbiamo raccolto i primi due anni dati che comunque sono stati molto importanti per poi il futuro del progetto in se stesso e da lì è nata la prima coltivazione, la prima piantagione di 10 ettari nel 2021 di cotone in Sicilia dove attualmente si è scelto di fare un cotone di specie superiore quindi stiamo proprio dicendo un cotone Pima Cotton che è una fibra lunga che ha delle caratteristiche estremamente importanti nel settore della moda e ovviamente che può supportare quella che è l'industria del lusso perché comunque non ci ricordiamo male ma siamo sempre coltivando in Italia e siccome lo facciamo in modo corretto e sostenibile ci sono dei costi che vanno affrontati per cui questi costi devono essere anche economici perché la sostenibilità non è solo nel terreno ma è anche economica. Quindi da lì è nato il primo campo, il primo campo che tra parentesi vi racconto abbiamo raccolto a mano, abbiamo assunto mezza Sicilia per venire a raccogliere questi 10 ettari di cotone che ci siamo portati a casa con tanto orgoglio e abbiamo ginnato con una piccola macchina che avevamo importato dalla Cina. Questo step è stato molto importante perché ha fatto conoscere il nostro prodotto al settore moda fondamentalmente perché all'inizio si è fatto semplicemente un'operazione di dire ragazzi abbiamo riportato, stiamo riportando la cultura del cotone in biologico, organico, lo stiamo facendo in Sicilia di nuovo, vi chiedo di provare questa fibra. E così è stato, è stata mandata a diverse brand e onestamente a mia sorpresa inizialmente c'è stato un grande espluace. Tutti estremamente emozionati dal progetto, tutto il settore della moda che si è mosso immediatamente a venire giù in Sicilia a vedere che cosa sta succedendo. Cosa che abbiamo spinto ad aprire la prima ginnatura, che noi abbiamo aperto la prima azienda di ginnatura dove stiamo ginnando in Sicilia nel 2022, dove non si apriva una ginnatura veramente in Italia in generale da più di 60 anni, oggi forse ancora siamo la prima, so che ci sono altri territori dove stanno seguendo questa cultura e la stanno ristallando. Tra l'altro praticamente subito fuori dalla pandemia, quindi doppiamente coraggiosi. Insomma è un momento in cui non si apriva così facilmente l'attività. Esatto, ma io devo dire che durante la pandemia noi coltiviamo il cotone, quindi di conseguenza in questi anni di pandemia ci hanno aiutato comunque a installare questa produzione. Quindi non tutto è negativo quello che è successo, per cui voglio dire, so che è una brutta esperienza per tutti, ovviamente, però posso dire che ci ha avuto anche dei scontri positivi dal nostro punto di vista perché ci ha dato la possibilità comunque di continuare questa attività. Nel 2022 apriamo questa prima ginnatura e quindi di conseguenza abbiamo con grande emozione, cominciamo a tirare fuori la prima balla reale di cotone coltivata e ginnata direttamente in loco di fibra lunga, apprezzatissima da tutti quanti. E io prima di continuare vorrei innanzitutto lanciare un piccolo video che vi racconta inizialmente la storia di quello che vi stavo accennando, che poi vi spiegherò cosa succederà. E io prima di continuare a fare un piccolo video, Grazie a tutti! Grazie! 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 Ragazzi scusate, l'avrò visto 200 volte ma mi emoziono sempre quando lo rivedo perché non lo so, fa parte, forse ricorda la fatica che abbiamo fatto per arrivare a questo punto. Comunque a questo punto devo dire che il progetto piano piano si è evoluto, si è evoluto perché? Perché oltre a coltivare cotone e aver dimostrato che il cotone innanzitutto fa bene al territorio, risparmiando innanzitutto consumi di acqua, perché comunque tutti pensano, come ha detto il nostro collega, che il cotone sia uno dei grandi distruttori del nostro pianeta, ma assolutamente non è vero, perché noi consumiamo 8.000 litri a ettaro di acqua al mese per fare un ettaro di cotone, contro i 30.000 che consuma la vigna, quindi forse consumiamo di più acqua quando beviamo un bicchiere di vino che quando ci mettiamo un cavo d'abbigliamento fatto in biologico. Però dall'altra parte devo dire che questa cosa è cresciuta, si è evoluta, si è evoluta tra quello che era un progetto di fibra ed è diventato qualcosa di più, perché nel percorso ho conosciuto Aliai Venturi e Riccardo Cammalleri, che hanno creduto insieme a me a questo progetto e abbiamo unito le sinergie, azienda specializzata nel agrofotovoltaico, quindi nella generazione di energia sostenibile, unita alle coltivazioni di cotone, territorio che viene utilizzato per creare energia sostenibile e che viene anche oggi utilizzato per la cultura del cotone. Ma questa cosa non è una sinergia che nasce semplicemente da un dato di fatto o quello che avete visto, questa sinergia nasce anche da importanti dati numerici, perché il cotone, dovete sapere che è un grande termoattrattore, cioè più calore fa, ecco perché si coltiva in Africa, ecco perché si coltiva nei paesi sud degli Stati Uniti, ecco perché comunque in Grecia siamo nello stesso livello e del parallelo e riusciamo a entrare nell'ottica della coltivazione del cotone. Ma all'interno dei pannelli si creano durante alcune ore delle giornate delle temperature particolarmente alte, questo fa sì che il cotone ne trae beneficio, nell'ambito stesso della sua cultura. Quindi una sinergia agricola, una sinergia sostenibile, creiamo pura fibra per il mercato dell'alta moda, perché come abbiamo detto stiamo facendo una fibra estremamente pregiata, la creiamo in modo sostenibile. Un ettaro di cotone abbiamo calcolato che assorbe 1.8 tonnellate di CO2 durante il suo percorso di cultura, stiamo parlando di un numero altissimo, io sfido, qualcun altro mi dice guarda abbiamo una piantagione che fa altrettanto assorbimento di CO2 di qualunque altra cultura state parlando. Quindi io vorrei innanzitutto distruggere quelli che sono gli ideali passati, che il cotone è una cattiva cultura che possa dare dei danni al pianeta, anzi devo dire che li sostiene, li sostiene pure molto. Questa sinergia creata insieme all'ICS Group, che come avete visto ci ha dato la possibilità anche di cominciare a provare altre culture biologiche. Abbiamo cominciato a installare il guado, che è una pianta tradizionale che produce il blu, quindi stiamo facendo le colorazioni sul nostro cotone direttamente naturalmente. E per questo avrei anche un altro piccolo video che vorrei fare vedere per la conclusione. Grazie, molto gentile. E nasce Sofine, che è il nostro nuovo brand che esprime eleganza superiore per la moda italiana. Tutto made in Italy. Grazie. Grazie. Oggi nasce Sofine, che è il futuro del Made in Italy. Noi abbiamo creato un brand ingrediente veramente importante per quello che è la catena della moda italiana. Dalla nostra fibra arriva veramente a questo punto il Made in Italy. Chi produce utilizzando la fibra italiana può veramente, finalmente dopo 50 anni, dire il prodotto è fatto in Italia, sia dalla materia prima che al prodotto finito. Fino a ieri si portava il cotone da ogni parte del mondo. Io stesso con i miei occhi ho visto veramente coltivare questo cotone nei modi più allucinanti in ogni parte di questo pianeta, ma vi posso assicurare che in Sicilia lo facciamo bene e lo facciamo veramente con amore per la natura e per i fiori, perché poi alla fine il cotone è un fiore e la bellezza stessa della pianta lo dice. Dal giallo diventa fucsia e dal fucsia diventa bianco. Quindi potete immaginare lo spettacolo di colori e di natura che ci offre un campo di cotone. Io vi ringrazio della vostra attenzione e spero di venire, vi aspetto tutti in Sicilia a vedere i nostri campi. Grazie. Che lo fate con amore si vede da come lo racconta, quindi complimenti. Allora noi abbiamo ancora una manciata di minuti. Come dire, rompo la bellezza di questa narrazione, Eric, per avere da lei una risposta alla domanda, che non è una domanda ma è una definizione, fibra sintetica, come si inserisce in questo racconto, in questo viaggio? Funziona? Sì, ottimo. Nel mondo tessile generalmente cerchiamo di fare la differenza tra fibre sintetiche e fibre naturali. E la cosa fondamentale è che le fibre naturali generalmente vengono da animali o piante, mentre quelle sintetiche derivano dal combustibile, dal petrolio in realtà. E c'è una differenza ambientale molto importante. Ovviamente saprete che in America c'è un grande dibattito sulla circolarità, sulla durata del ciclo di vita, la riduzione degli sprechi. E ovviamente i prodotti che otteniamo alla fine del ciclo di vita di questi prodotti è molto diversa. Alcune volte parliamo di microfibre, che però microfibre da prodotti sintetici sono completamente diverse da quelle che vengono da prodotti naturali. Quindi ad esempio, se abbiamo fibre sintetiche che poi arrivano alla fine del loro ciclo di vita, possiamo anche buttarle in un campo perché si decompongono da sole. In realtà con le fibre sintetiche non è così, perché sono lavorazioni sintetiche, lavorazioni chimiche e quindi abbiamo residui che sono microplastichi e che possono avere un problema, un impatto molto importante sull'ambiente. Quindi quando diciamo che cosa vuol dire avere un tessuto sostenibile e in America abbiamo moltissimi regolamenti che appunto vogliono rafforzare questo punto. Quando abbiamo ad esempio un regolamento o facciamo una scelta personale, ad esempio vi voglio dire una cosa, l'abito che indosso oggi è vecchio di circa 20 anni e sicuramente potete vedere che il brand da cui l'ho acquistato tiene moltissimo alla qualità data la sua condizione oggi. In realtà se cerchiamo un prodotto, scegliamo un prodotto del fast fashion, lo mettiamo cinque volte e poi lo dobbiamo buttare. E quindi questa è la differenza, le scelte che facciamo fanno la differenza. Una battuta Alexis che ha parlato un po' meno degli altri per capire come si sta muovendo anche la diffusione del cotone africano nelle altre parti del mondo. Arriva, arriva con facilità o ci sono delle zone dove ancora si fa fatica a portarlo, a far arrivare il vostro lavoro? Ci sono ancora molte sfide, soprattutto per quanto riguarda la formazione e la formazione delle capacità. Quindi dobbiamo allocare molti fondi per far sì che questo venga migliorato. Stiamo cercando di dare il nostro meglio di nuovo dal punto di vista anche del coinvolgimento di istituzioni, governi per far sì di avere le risorse necessarie che non devono essere, ad esempio, per forza soldi, possono essere anche attrezzature, macchinari. Quindi stiamo cercando di accrescere le competenze a livello dei agricoltori anche che lavorano in prima linea sui campi per far sì che possano avere tutte le informazioni e gli strumenti di cui hanno bisogno e questa è una priorità. E poi ovviamente migliorare anche le relazioni tra i vari partner. Quindi la nostra organizzazione sta cercando di avere anche una relazione con gli Stati Uniti e con una parte della costa africana per capire quali sono le necessità per cercare di creare degli standard comuni a tutti che tutti possano comprendere. La nostra organizzazione si trova in Cameron ma cerchiamo di includere tutti i vari paesi e anche con l'iniziativa del Made in Italy che è una fonte di ispirazione per noi perché è assolutamente di successo. Quindi cercare di avere le risorse, i fondi e le competenze. Tutti i continenti, l'Europa, l'Africa, gli Stati Uniti, la nostra bella Italia con una storia fatta di cotone, fatta di passione, fatta di radici e fatta soprattutto di sostenibilità. Quindi grazie davvero a tutti i nostri relatori, un grande applauso ad ognuno di loro. Noi ci fermiamo per qualche momento e tra poco a proposito di sostenibilità cercheremo di parlare e di capire cosa significa davvero essere sostenibili dal punto di vista del turismo con anche la Ministra Santanchè che sarà nostra ospite. Ci vediamo tra pochissimo. Grazie 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 Grazie